Dedica de Il Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni, o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Dedica Niccolò Machiavelli al Magnifico Lorenzo di Piero de' Medici Sogliono il più delle volte coloro che desiderano acquistare grazia presso un Principe, fasseli innanzi con quelle cose, che tra le loro abbino più care, o delle quali vegghino l'uomo. Lui più dilettarsi. Donde si vede molte volte esser loro presentati cavalli, arme, drappi d'oro, pietre preziose e simili ornamenti, degni della grandezza di quelli. Desiderando io adunque offerirmi alla vostra magnificenza con qualche testimone della servitù mia verso di quella, non ho trovato tra le mie superlettile cosa quale io abbia più cara, o tanto stimi, quanto la cognizione delle azioni degli uomini grandi, imparata da me con una lunga esperienza delle cose moderne, ed una continua lezione delle antiche. La quale avendo io con gran diligenza, lungamente scogitata ed esaminata, ed ora in uno piccolo volume ridotta, mando alla magnificenza vostra. E benché io giudichi questa opera indegna della presenza di quella, non di meno confido assai, che per la sua umanità gli debba essere accetta, considerato che da me non li possa esser fatto maggior dono, che darle facultà a poter in brevissimo tempo intendere tutto quello che io in tanti anni, e con tanti mie disagi e pericoli, ho conosciuto e inteso. La quale opera io non ho ornata né ripiena di clausole ampie, o di parole ampolloso magnifiche, o di qualunque altro lenocinio o ornamento estrinseco, con li quali molti sogliono le lor cose di scrivere ed ornare. Perché io ho voluto o che veruna cosa l'onori, o che solamente la verità della materia e la gravità del soggetto la faccia grata. Ne voglio sia riputata presunzione, se uno uomo di basso e infimo Stato ardisce di scorrere e regolare i governi dei Principi. Perché così come coloro che disegnano i Paesi si pongono bassi nel piano a considerare la natura dei monti e dei luoghi alti, e per considerare quella dei bassi si pongono alti sopra i monti, similmente a conoscer bene la natura dei popoli bisogna esser Principe. E la conoscer bene quella dei Principi conviene essere popolare. Piglia dunque vostra magnificenza questo piccolo dono con quello animo che io lo mando, il quale, se da quella fia diligentemente considerato eletto, vi conoscerà dentro un estremo mio desiderio che ella pervenga a quella grandezza che la fortuna e le altre sue qualità le promettono. E se vostra magnificenza dallo apice della sua altezza qualche volta volgerà gli occhi in questi luoghi bassi, conoscerà quanto indegnamente io sopporti una grande e continua malignità di fortuna. Fine della Dedica Capitoli da uno a tre De Il Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo I Quante siano le specie dei Principati, e con quali modi si acquistino. Tutti gli Stati, tutti i Domini che hanno avuto, e hanno imperio sopra gli uomini, sono Stati e sono o Repubbliche o Principati. I Principati sono o ereditati, le quali sangue del loro Signore ne sia stato lungo tempo Principe, o sono nuovi. I nuovi o sono nuovi tutti, come fu Milano a Francesco Sforza, o sono come membri aggiunti allo Stato ereditario del Principe che li acquista, com'è il Regno di Napoli al Re di Spagna. Sono questi Domini così acquistati, o consueti a vivere sotto un Principe, o usi a esser liberi, ed acquistansi o con le armi di altri, o con le proprie, o per fortuna, o per virtù. Fini del Capitolo Uno Capitolo Due Dei Principati ereditari Io lascerò indietro il ragionare delle Repubbliche, perché altra volta ne ragionai a lungo. Voltirommi solo al Principato, e anderò nel ritessere queste orditure di sopra, disputando come questi Principati si possono governare e mantenere. Dico adunque, che negli Stati ereditari, ed a suoi fatti al sangue del loro Principe, sono assai minori difficoltà mantenerli che nei nuovi, perché basta solo non trapassare l'ordine dei suoi antenati, e di poi temporeggiare con gli accidenti, in modo che se tal Principe è di ordinare Industria, sempre si manterrà nel suo Stato, se non è una straordinaria ed eccessiva forza che ne lo priva. E privato che ne sia, quantunque di sinistro abbia l'occupatore, lo riacquista. Noi abbiamo in Italia, per esempio, il Duca di Ferrara, il quale non ha retto agli assalti dei Veneziani nell'ottantaquattro, né a quelli di Papa Julio nel Dieci, per altre cagioni, che per essere antiquato in quel Dominio. Perché il Principe naturale ha minori cagioni e minori necessità di offendere. D'onde conviene che sia più amato, e se straordinari vizi non lo fanno odiare, è ragionevole che naturalmente sia ben voluto da suoi, e nell'antichità e continuazione del Dominio sono spente le memorie e le cagioni delle innovazioni, perché sempre una mutazione lascialo addentellato per l'edificazione dell'altra. Fine dal Capitolo due Capitolo tre Dei Principati misti Ma nel Principato nuovo consistono le difficoltà, e prima, se non è tutto nuovo, ma come membro, che si può chiamare tutto insieme quasi misto, le variazioni sue nascono in prima da una naturale difficoltà, quale è in tutti Principati nuovi. Perché gli uomini mutano volentieri Signore, credendo migliorare, e questa credenza gli fa pigliar l'arme contro a chi regge, di che si ingannano, perché vengono poi per esperienza aver peggiorato. Il che dipende da un'altra necessità naturale ed ordinaria, quale fa che sempre bisogna offendere quelli di chi si diventa nuovo Principe. E con gente d'arme, e con infinite altre ingiurie, che si tira dietro il nuovo acquisto, di modo che si trovi avere i nemici tutti quelli che tu hai offesi in occupare quel Principato. E non ti puoi mantenere amici quelli che vi ti hanno messo, per non li potere satisfare in quel modo che si erano presupposto, e per non potere tu usare contro di loro medicine forti, essendo loro obbligato. Perché sempre ancorché uno sia fortissimo in su gli eserciti, ha bisogno del favore dei Provinciali ad entrare in una Provincia. Per queste ragioni Luigi XII, re di Francia, occupò subito Milano, e subito lo perdè, e bastarono a togliere la prima volta le forze proprie di Lodovico, perché quelli popoli che gli avevano aperte le porte, trovandosi ingannati dell'opinione loro, e di quel futuro bene che si avevano presupposto, non potevano sopportare fastid del nuovo Principe. E' ben vero che acquistandosi poi la seconda volta i Paesi ribellati, si perdono con più difficoltà, perché il Signore, preso occasione dalla ribellione, è meno rispettivo ad assicurarsi con punire i delinquenti, chiarire i sospetti, provvedersi nelle parti più deboli. In modo che se a far perdere Milano a Francia bastò la prima volta un duco Lodovico, che romeggiasse in su confini, a farlo di poi perdere la seconda, gli bisognò avere contro il mondo tutto, e che gli eserciti suoi fossero spenti e cacciati d'Italia. Il che nacque dalle cagioni sovraddette. Non di meno, e la prima e la seconda volta gli fu tolto. Le cagioni universali della prima si sono discorse. Resta ora a vedere quella della seconda, e dire che rimedi egli aveva, e quale può avere uno che fusse nei termini suoi, per potersi meglio mantenere nello acquistato, che non fece il Re di Francia. Dico, pertanto, che questi Stati, i quali acquistandosi si aggiungono uno Stato antico di quello che li acquista, o sono della medesima provincia e della medesima lingua, o non sono. Quando siano, è facilità grande a tenergli, massimamente quando non siano usi a vivere liberi. E a possedergli sicuramente basta avere spenta la linea del Principe, che gli dominava, perché nelle altre cose, mantenendosi loro le condizioni vecchie, e non vi essendo disformità di costumi, gli uomini si vivono quietamente, come si è visto che ha fatto la Borgogna, la Bretagna, la Guascogna e la Normandia, che tanto tempo sono state con Francia. E benché vi sia qualche disformità di lingua, non di meno i costumi sono simili, e possonsi tra loro facilmente comportare. E a chi le acquista, volendole tenere, bisogna avere due rispetti. L'uno, che il sangue del loro Principe antico si spenga. L'altro, di non alterare né loro leggi né loro dazi. Talmente che, in brevissimo tempo, diventa con il loro Principato antico tutto un corpo. Ma quando si acquistano stati in una provincia disforme di lingua, di costumi e di ordini, qui sono le difficoltà, e qui bisogna avere grande fortuna e grande industria a tenergli. Ed uno dei maggiori rimedi, e più vivi, sarebbe che la persona di chi li acquista vi andasse ad abitare. Questo farebbe più sicura e più durabile quella possessione, come ha fatto il turco di Grecia, il quale, con tutti gli altri ordini osservati da lui per tenere quello stato, se non vi fosse ito ad abitare, non era possibile che lo tenesse. Perché standovi, si vengono nascere disordini, e presto vi si può rimediare. Non vi stando, si intendono quando sono grandi, e non vi è più rimedio. Non è oltre a questo la provincia spogliata da tuoi ufficiali. Satisfannosi i sudditi del ricorso propinco al Principe, donde hanno più cagione di amarlo, volendo essere buoni, e volendo essere altrimenti di temerlo. Chi degli esterni volesse assaltare quello stato vi ha più rispetto, tanto che avvitandomi lo può con grandissima difficoltà perdere. L'altro miglior rimedio è mandare colonie in uno o in due luoghi, che siano quasi le chiavi di quello stato, perché è necessario o fare questo, o tenervi assai gente d'arme e fanterie. Nelle colonie non gli spende molto il Principe, e senza sua spesa o poca ve le manda e tiene, e solamente offende coloro a chi toglie i campi e le case per darle a nuovi abitatori, che sono una minima parte di quello stato. E quelli che egli offende, rimanendo dispersi e poveri, non gli possono mai nuocere, e tutti gli altri rimangono da una parte non offesi, e per questo si credono facilmente. dall'altra paurosi di non errare, perché non intervenisse loro come a quelli che sono stati spogliati. Conchiudo, che queste colonie che non costano, sono più fedeli, offendono meno, e gli offesi, essendo poveri e dispersi, non possono nuocere, come ho detto. Perché si ha a notare che gli uomini si debbono o vezzeggiare o spegnere, perché si vendicano delle leggeri offese, delle gravi non possono, sicché l'offesa che si fa all'uomo deve essere in modo che ella non tema la vendetta. Ma tenendovi, in cambio di colonie, gente d'arme, si spende più assai, avendo a consumare nella guardia tutte le entrate di quello stato, in modo che l'acquistato gli torna in perdita, e offende molto più. Perché nuocia tutto quello stato, tramutando con gli alloggiamenti il suo esercito, del quale disagio ognuno ne sente, e ciascuno gli diventa nemico, e sono i nemici che gli possono nuocere rimanendo battuti in casa loro. D'ogni parte dunque questa guardia è inutile, come quella delle colonie è utile. Debbe ancora, chi è in una provincia disforme, come è detto, farsi capo e difensore dei vicini minori potenti, ingegnarsi di indebolire più potenti di quella, e guardare che, per accidente alcuno, non vi entri uno forestiere non meno potente di lui. E sempre interverrà che vi sarà messo da coloro che saranno in quella malcontenti, o per troppa ambizione o per paura, come si vide già che gli etoli misero gli Romani in Grecia, e in ogni altra provincia che loro entrarono vi furono messi dei provinciali. E l'ordine della cosa è, che subito che un forestiere potente entra in una provincia, tutti quelli che sono in essa meno potenti gli aderiscono, mosse da un'invida che hanno contro chi è stato potente sopra di loro. Tanto che rispetto a questi minori potenti egli non ha a durare fatica alcuna a guadagnarli, perché subito tutti insieme volentieri fanno massa con lo Stato che egli vi ha acquistato. Ha solamente a pensare che non piglino troppe forze e troppa autorità, e facilmente può con le forze sue, e con il favor loro, abbassare quelli che sono potenti, per rimanere in tutto arbitro di quella provincia. E chi non governerà bene questa parte, perderà presto quello che harà acquistato, e mentre che lo terrà, vi harà dentro infinite difficoltà e fastidi. I Romani nelle province che pigliarono, osservarono bene queste parti, e mandarono alle colonie, intrattenerono i men potenti senza crescere loro potenza, abbassarono li potenti, e non vi lasciarono prendere reputazione ai potenti forestieri. E voglio vi basti solo la provincia di Grecia, per esempio. Furono intrattenuti da loro gli Achei e gli Etoli, fu abbassato il regno de' Macedoni, funne cacciato Antioco. Né mai gli meriti degli Achei o degli Etoli fecero che permettessero loro a crescere alcuno Stato, né le persuasioni di Filippo gli indussero mai ad essergli amici senza sbassarlo, né la potenza di Antioco pote fare gli consentissero che tenessi in quella provincia alcuno Stato. Perché i Romani fecero in questi casi quello che tutti i Principi savi debbono fare, di quali non solamente hanno ad avere riguardo agli scandoli presenti, ma agli futuri, ed a quelli con ogni industria riparare. Perché prevedendosi di scosto, facilmente vi si può rimediare, ma aspettando che ti s'appressino, la Medicina non è più a tempo, perché la malattia è divenuta incurabile. Ed interviene di questa, come dicono i Medici dell'Etica, che nel principio è facile a curare e difficile a conoscere, ma nel corso del tempo, non l'avendo nel principio conosciuta né medicata, diventa facile a conoscere e difficile a curare. Così interviene nelle cose dello Stato, perché conoscendo di scosto, il che non è dato se non ad uno prudente, i mali che nascono in quello, si guariscono presto, ma quando, per non li aver conosciuti, si lasciano crescere in modo che ognuno li conosce, non vi è più rimedio. Però i Romani, vedendo di scosto gli inconvenienti, gli rimediarono sempre, e non li lasciarono mai seguire per fuggire una guerra, perché sapevano che la guerra non si leva, ma si differisce con vantaggio d'altri. Però volsero fare con Filippo ed Antioco guerra in Grecia, per non avere affare con loro in Italia, e potevano per allora fuggire l'una e l'altra. Il che non volsero, ne piacque mai loro quello che tutto di e in bocca de' savi de' nostri tempi, godere gli benefici del tempo, ma bene quello della virtù e prudenza loro, perché il tempo si cancia ignanzi a ogni cosa, e può condurre seco bene come male, male come bene. Ma torniamo a Francia, ed esaminiamo se delle cose dette ne ha fatte alcuna. E parlerò di Luigi, e non di Carlo, come di colui del quale, per avere tenuto più lunga possessione in Italia, si sono meglio visti gli suoi andamenti. E vedrete come egli ha fatto il contrario di quelle cose, che si debbono fare per tenere uno stato disforme. Il re Luigi fu messo in Italia dall'ambizione de' Veneziani, che volsero guadagnarsi in mezzo allo stato di Lombardia per quella venuta. Io non voglio abiasimare quella venuta o partito o preso dal re, perché volendo cominciare a mettere un piede in Italia, e non avendo in questa provincia amici, anzi essendoli per i portamenti del re Carro serrate tutte le porte, fu forzato prendere quelle amicizie che poteva. E sarebbe li riuscito il pensiero bene preso, quando negli altri maneggi non avesse fatto errore alcuno. Acquistata dunque il re la Lombardia, si riguadagnò subito quella reputazione che gli aveva tolta Carlo. Genova cedette, i Fiorentini gli diventarono amici, Marchese di Mantova, Duca di Ferrara, Ventivogli, Madonna di Furlì, Signore di Faenza, di Pesaro, di Rimino, di Camerino, di Piombino, Lucchesi, Pisani, Sanesi, ognuno se li fece incontro per essere suo amico. E da allora poterno considerarli i Veneziani la temerità del partito preso da loro, i quali, per acquistare due terre in Lombardia, fecero Signore il re di due terzi d'Italia. Consideri ora uno con quanta poca difficoltà poteva il re tenere in Italia la sua reputazione, se egli avesse osservate le regole sovradette, e tenuti sicuri, e difesi tutti quelli amici suoi, li quali, per essere grande numero, e deboli, e paurosi, chi della Chiesa, chi dei Veneziani, erano sempre necessitati a star seco, e per il mezzo loro poteva facilmente assicurarsi di chi ci restava grande. Ma egli non prima fu in Milano, che fece il contrario, dando aiuto a Papa Alessandro, perché egli occupasse la Romagna. Ne si accorse con questa deliberazione, che faceva sé debole, togliendosi gli amici, e quelli che se li erano agittati in grembo, e la Chiesa grande, aggiungendo allo spirituale, che gli dà tanta autorità, tanto temporale. E fatto un primo errore, fu costretta a seguitare, intanto che, per porre fine all'ambizione di Alessandro, e perché non divenisse signore di Toscana, gli fu forza a venire in Italia. E non gli bastò aver fatto grande la Chiesa, e toltisi gli amici, che per volere il regno di Napoli, lo divise con il re di Spagna, e dove egli era primo arbitro d'Italia, vi messe un compagno, acciò che gli ambiziosi di quella provincia, e malcontenti di lui, avessero dove ricorrere, e dove poteva lasciare in quel regno un re suo pensionario, egli ne lo trasse per mettervi uno, che potesse cacciarne lui. E' cosa veramente molto naturale e ordinaria desiderare di acquistare, e sempre, quando gli uomini lo fanno che possino, ne saranno laudati e non biasimati. Ma quando non possono, e vogliono farlo in ogni modo, qui è il biasimo e l'errore. Se Francia dunque con le sue forze poteva assaltare Napoli, doveva farlo, se non poteva, non doveva dividerlo. E se la divisione che fece con i Veneziani di Lombardia meritò scusa per avere con quella messo il piena Italia, questa meritò biasimo per non essere scusato da quella necessità. Aveva dunque Luigi fatto questi cinque errori. Spenti i minori potenti, accresciut in Italia potenza a uno potente, messo in quella un forestiere potentissimo, non venuto d'abitarvi, non vi messo colonie. Di quali errori, vivendo lui, potevano ancora non l'offendere, se non avesse fatto il sesto, di torre lo Stato ai Veneziani, perché quando non avesse fatto grande la Chiesa, né messo in Italia e Spagna, era ben ragionevole e necessario abbassarli. Ma avendo preso quelli primi partiti, non doveva mai consentire alla rovina loro, perché essendo quelli potenti, avrebbero sempre tenuti gli altri discosti dalle imprese di Lombardia, sì perché i Veneziani non vi avrebbero consentito senza diventarni signori loro, sì perché gli altri non avrebbero voluto torno a Francia per darla loro, e andarli a urtare ambidui non avrebbero avuto animo. E se alcun dicesse, il re Luigi cede ad Alessandro la Romagna, e da Spagna il Regno per fuggire una guerra, rispondo con le ragioni dette di sopra, che non si debba mai lasciare seguire uno disordine per fuggire una guerra, perché ella non si fugge, ma si differisce al tuo disavvantaggio. E se alcuni altri allegassero la fede, che il re aveva data al Papa di far per lui quella impresa per la risoluzione del suo matrimonio, e per il cappello di Roano, rispondo con quello che per me di sotto si dirà circa la fede dei Principi, e come ella si debba osservare. Ha perduto dunque il re Luigi la Lombardia, per non aver osservato alcuno di quelli termini osservati da altri, che hanno preso province, e volutene tenere. Ne è miracolo alcuno questo, ma molto ragionevole e ordinario. E di questa materia parlai a Nantes con Roano, quando il Valentino, che così volgarmente era chiamato Cesare Borgia, figliolo di Papa Alessandro, occupava la Romagna. Perché dicendomi il Cardinale Roano, che gli Italiani non si intendevano della guerra, io risposi che i Francesi non si intendevano dello Stato, perché intendendosene non lascerebbero venire la Chiesa in tanta grandezza. E per esperienza si è visto che la grandezza in Italia di quella e di Spagna è stata causata da Francia, e la rovina sua è proceduta da loro. Di che si cava una regola generale, quale non mai o raro falla. Che chi è cagione che uno diventi potente, rovina, perché quella potenza è causata da colui o con industria o con forza, e l'una e l'altra di queste due è sospetta a chi è divenuto potente. Fine del Capitolo tre Capitoli da quattro a sei De Il Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni, o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo Quattro Perché il Regno di Dario, da Alessandro occupato, non si ribellò dagli successori di Alessandro dopo la sua morte? Considerate le difficoltà, le quali si hanno in tenere uno stato acquistato di nuovo, potrebbe alcuno maravigliarsi, donde nacque che Alessandro Magno diventò Signore dell'Asia in pochi anni, e non l'avendo appena occupata morì. Donde pareva ragionevole, che tutto quello stato si ribellasse. Non di meno i successori suoi se lo mantennero, e non ebbono a tenerselo altra difficoltà, che quella che in tra loro medesimi per propria ambizione nacque. Rispondo come i Principati, de quali si ha memoria, si trovano governati in due modi diversi, o per un Principe, e tutti gli altri servi, i quali, come Ministri per grazia e concessione Sua, aiutano governare quel Regno, o per un Principe e per baroni, i quali non per grazia del Signore, ma per antichità di sangue, tengono quel grado. Questi tali baroni, hanno Stati e sudditi propri, li quali gli riconoscono per Signori, e hanno in loro naturale affezione. Quelli Stati, che si governano per un Principe e per servi, hanno il loro Principe con più autorità, perché in tutta la sua provincia non è alcuno che riconosca per superiore se non lui, e se obbediscono ad altri, lo fanno come un Ministro e ufficiale, e non gli portano a particolare. amore. Gli esempi di queste due diversità di governi sono, nei nostri tempi, il Turco e il Re di Francia. Tutta la monarchia del Turco è governata da un Signore. Gli altri sono Suoi servi. E distinguendo il Suo Regno in San Giacchi, vi manda diversi amministratori, e gli muta e varia come pare a lui. Ma il Re di Francia è posto in mezzo di una moltitudine antica di Signori, ed è conosciuti da loro sudditi, ed amati da quelli. Hanno le loro preeminenzie, né le può il Re torre loro senza suo pericolo. Chi considera dunque l'uno e l'altro di questi Stati, troverà difficoltà nell'acquistare lo Stato del Turco, ma vinto che sia, è facilità grande a tenerlo. Le cagioni delle difficoltà in potere occupare il Regno del Turco, sono per non potere l'occupatore essere chiamato da Principi di quel Regno, né sperare con la ribellione di quelli che egli ha d'intorno, potere facilitare la sua impresa. Il che nasce dalle ragioni sopraddette. Perché essendogli tutti schiavi e obbligati, si possono con più difficoltà corrompere. E quando bene si corrompessino, se ne può sperare poco utile, non potendo quelli trarsi dietro i popoli per le ragioni assegnate. Onde a chi assalta il Turco, è necessario pensare di averlo a trovare unito, e gli conviene sperare più nelle forze proprie, che nei disordini di altri. Ma vinto che fosse, e rotta la campagna in modo che non possa rifare eserciti, non si ha da dubitare d'altro che del sangue del Principe, il quale spento non resta alcuno di chi si abbia a temere, non avendo gli altri credito con i popoli. E come il vincitore avanti la vittoria non poteva sperare in loro, così non debbe, dopo quella, temere di loro. Il contrario interviene nei regni governati come quello di Francia, perché con facilità puoi entrarvi, guadagnandoti alcuno barone del regno, perché sempre si trova dei malcontenti, e di quelli che desiderano innovare. Costoro, per le ragioni dette, ti possono aprire la via a quello Stato, e facilitarti la vittoria, la quale di poi, a volerti mantenere, si tira dietro infinite difficoltà, e con quelli che ti hanno aiutato, e con quelli che tu hai oppressi. Né ti basta spegnere il sangue del Principe, perché vi rimangono quelli signori, che si fanno capi delle nuove alterazioni, e non li potendo contentare né spegnere, perdi quello Stato qualunque volta venga l'occasione. Ora, se voi considererete di qual natura di governi era quello di Dario, lo troverete simile al regno del Turco, e però Alessandro fu necessario prima urtarlo tutto, e torgli la campagna, dopo la qual vittoria, essendo Dario morto, rimase da Alessandro quello Stato sicuro, per le ragioni sopra discorse. Ed i suoi successori, se fossino Stati uniti, se lo potevano godere aziosi, né in quel regno nacquero altri tumulti, che quelli che loro propri suscitarono. Ma gli Stati ordinati, come quello di Francia, è impossibile possederli con tanta quiete. Di qui nacquero le spesse ribellioni di Spagna, di Francia e di Grecia da Romani, per gli spessi Principati, che erano in quelli Stati, dei quali, mentre che durò la memoria, sempre furono i Romani incerti di quella possessione. Ma spenta la memoria di quelli, con la potenza di uturnità dell'Imperio, ne diventarono sicuri possessori, e poterono di poi anche quelli, combattendo tra loro, ciascuno tirarsi dietro parte di quelle province, secondo l'autorità li aveva preso dentro. E quelle, per essere il sangue del loro antico Signore spento, non riconoscevano altri, che i Romani. Considerando adunque queste cose, non si maraviglierà alcuno della facilità che ebbe Alessandro a tenere lo Stato d'Asia, e delle difficoltà che hanno avuto gli altri a conservare l'acquistato, come Pirro e molti altri, il che non è accaduto dalla poca o molta virtù del vincitore, ma dalla disformità del soggetto. Fine del Capitolo Quattro Capitolo Cinque In che modo siano da governare le città o Principati, quali, prima che occupati fussino, vivevano con le loro leggi? Quando quelli Stati che si acquistano, come è detto, sono consueti a vivere con le loro leggi e in libertà, a volergli tenere ci sono tre modi. Il primo è rovinargli, l'altro andarvi ad abitare personalmente, il terzo lasciargli vivere con le sue leggi, tirandone una pensione, e creandovi dentro uno Stato di pochi, che te lo conservino, amico. Perché essendo quello Stato creato da quel Principe, sa che non può stare senza l'amicizia e potenza sua, e ha da fare tutto per mantenerlo. E più facilmente si tiene una città usa a vivere libera con il mezzo dei suoi cittadini, che in alcun altro modo, volendola preservare. Sonoci, per esempio, gli Spartani ed i Romani. Gli Spartani tennero Atene e Tebe, creandovi uno Stato di pochi. Niente di meno le perderono. I Romani, per tenere capo a Cartagena e Numanzia, le disfecero, e non le perderono. Volnero tenere la Grecia quasi come la tennero gli Spartani, facendola libera, e lasciandole le sue leggi, e non successe loro. In modo che furono costretti disfare molte città di quella provincia, per tenerla, perché in verità non c'è modo sicuro a possederle altro che la rovina. E chi diviene padrone di una città consueta a vivere libera, e non la disfaccia, aspetti di essere disfatto da quella, perché sempre ha per refugio nella ribellione il nome della libertà, e gli ordini antichi suoi, gli quali né per lunghezza di tempo, né per benefici mai si scordano. E per cosa che si faccio si provegga, se non si disuniscono o dissipano gli abitatori, non si dimentica quel nome, né quelli ordini, ma subito in ogni accidente vi si ricorre, come fe' Pisa dopo tanti anni che ella era stata posta in servitù dai Fiorentini. Ma quando le città o le province sono usa a vivere sotto un Principe, e quel sangue sia spento, essendo da una parte usa ad ubbidire, dall'altra non avendo il Principe vecchio, farne uno in tra loro non si accordano, vivere libere non sanno, di modo che sono più tardi a pigliare le armi, e con più facilità se li può un Principe guadagnare, ed assicurarsi di loro. Ma nelle Repubbliche è maggior odio, più desideri di vendetta, né le lascia, né può lasciare riposare la memoria dell'antica libertà, tal che la più sicura via è spegnerle o abitarle. Fine del Capitolo Cinque Capitolo Sei De Principati Nuovi, che con le proprie armi e virtù si acquistano Non si meraviglia alcuno, se nel parlare che io farò di Principati al tutto nuovi, e di Principe e di Stato, io addurrò grandissimi esempi. Perché camminando gli uomini quasi sempre per le vie battute da altri, e procedendo nelle azioni loro con le imitazioni, né si potendo le vie d'altri al tutto tenere, né alle virtù di quelli che tu imiti, aggiungere, debba un uomo prudente entrare sempre per vie battute da uomini grandi, e quelli che sono stati eccellentissimi imitare, acciò che, se la sua virtù non varriva, almeno ne renda qualche odore. E fare come gli arcieri prudenti, ai quali parendo il luogo dove disegnano ferire, troppo lontano, e conoscendo fino a quanto arriva la virtù del loro arco, pongono la mira assai più alta che il luogo destinato, non per raggiungere con la loro forza o freccia tanta altezza, ma per potere con l'aiuto di sì alta mira, per venire al disegno loro. Dico adunque, che nei Principati in tutto nuovi, dove sia un nuovo Principe, si trova più o meno difficoltà a mantenergli, secondo che più o meno virtuoso è colui che li acquista. E perché questo evento di diventare di privato Principe, presuppone o virtù o fortuna, pare che l'una o l'altra di queste due cose, mitighino in parte molte difficoltà. Non di meno, colui che è stato manco in sulla fortuna, si è mantenuto più. Genera ancora facilità, l'essere il Principe costretto, per avere altri Stati, per venirvi personalmente ad abitare. Ma per venire a quelli, che per propria virtù e non per fortuna sono diventati Principi, dico che li più eccellenti sono Moisè, Ciro, Romulo, Teseo e simili. E benché di Moisè non si debba ragionare, essendo stato un mero esecutore delle cose che gli erano ordinate da Dio, pure merita di essere ammirato solamente per quella grazia che lo faceva degno di parlare con Dio. Ma considerando Ciro e gli altri, che hanno acquistato o fondato regni, si troveranno tutti mirabili, e se si considereranno le azioni e ordini loro particolari, non parranno differenti da quelli di Moisè, benché egli ebbe sì grande precettore. Ed esaminando le azioni e vita loro, non si vedrà che quelli avessino altro dalla fortuna che l'occasione, la quale dette loro materia di potervi introdurre quella forma che a loro parse. E senza quella occasione la virtù dell'animo loro si saria spenta, e senza quella virtù l'occasione sarebbe venuta in vano. Era dunque necessario a Moisè trovare il popolo di Israele in Egitto, schiavo e oppresso dagli Egizi, acciò che quelli, per uscire di servitù, si disponessino a seguirlo. Conveniva che Romolo non capesse in Alba, e fusse stato esposto al nascere suo, a voler che diventassere di Roma, e fondatore di quella patria. Bisognava che Ciro trovassi i persi malcontenti dell'imperio dei Medi, ed i Medi molli ed effeminati per lunga pace. Non poteva Teseo dimostrare la sua virtù, se non trovava gli Atenesi dispersi. Queste occasioni, pertanto, fecciono questi uomini felici, e l'eccellente virtù loro fece quella occasione esser conosciuta. Donde la loro patria ne fu nobilitata, e diventò felicissima. Quelli quali, per vie virtuose simili a costoro diventano Principi, acquistano il Principato con difficoltà, ma con facilità lo tengono, e le difficoltà che hanno nell'acquistare il Principato, nascono in parte da nuovi ordini e modi, che sono forzati introdurre per fondare lo Stato loro e la loro sicurtà. E debbesi considerare come non è cosa più difficile a trattare, né più dubbia a riuscire, né più pericolosa a maneggiare, che farsi capo a introdurre nuovi ordini. Perché l'introduttore ha per nemici tutti coloro che degli ordini vecchi fanno bene, e tiepidi difensori tutti quelli che degli ordini nuovi farebbero bene. La quarta ipidezza nasce parte per paura degli avversari, che hanno le leggi in beneficio loro, parte dalla incredulità degli uomini, i quali non credono in verità le cose nuove, se non le vengono nate esperienza ferma. Donde nasce che qualunque volta quelli che sono nemici hanno occasione di assaltare, lo fanno parzialmente, e quelli altri difendono tiepidamente, in modo che insieme con loro si periclita. E' necessario, pertanto, volendo discorrere bene questa parte, esaminare se questi innovatori stanno per lor medesimi, o se dipendono da altri, cioè se per condurre l'opera loro bisogna che preghino, ovvero possono forzare. Nel primo caso capitano sempre male, e non conducono cosa alcuna, ma quando dipendono da loro propri, e possono forzare, allora è che rare volte periclitano. Di qui nacque, che tutti li profeti armati vinsono, e li disarmati rovinarono, perché, oltre le cose dette, la natura dei popoli è varia, ed è facile persuadere loro una cosa, ma è difficile fermarli in quella persuasione. E però conviene essere ordinato, in modo che, quando non credono più, si possa far loro credere per forza. Moisè, Ciro, Teseo e Romulo, non avrebbero potuto far osservare lungamente le loro Costituzioni, se fussero stati disarmati, come nei nostri tempi intervenne a frate Girolamo Savonarola, il quale rovinò nei suoi ordini nuovi, come la moltitudine cominciò a non credergli, e lui non aveva il modo da tenere fermi quelli, che avevano creduto, né a far credere i discredenti. Però questi tali hanno nel condursi gran difficoltà, e tutti i loro pericoli sono tra via, e conviene che con la virtù gli superino. Ma superati che li hanno, e che cominciano ad essere in venerazione, avendo spenti quelli che di sua qualità gli avevano invidia, rimangono potenti, sicuri, onorati e felici. A si alti esempi io voglio aggiungere un esempio minore, ma bene harà qualche proporzione con quelli, e voglio mi basti per tutti gli altri simili. E questo è ierone siracusano. Costui di privato diventò Principe di Siracusa, né ancora egli conobbe altro dalla fortuna che l'occasione. Perché essendo i siracusani oppressi, le lessono per loro Capitano, donde meritò di essere fatto loro Principe. E fu di tante virtù ancora in privata fortuna, che chi ne scrive dice che niente gli mancava a regnare, eccetto il Regno. Costui spense la milizia vecchia, ordinò la nuova, lasciò le amicizie antiche prese delle nuove, e come ebbe amicizie e soldati che fussero suoi, potette insultare fondamento edificare ogni edificio, tanto che egli durò assai fatica in acquistare, e poca in mantenere. Fine del Capitolo sei Capitoli da sette a otto De Il Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo sette De Principati nuovi, che con forze d'altre per fortuna si acquistano. Colori quali solamente per fortuna diventano di privati Principi, con poca fatica diventano, ma con assai si mantengono. E non hanno difficoltà alcuna tra via, perché vi volano, ma tutte le difficoltà nascono da poi che vi sono posti. E questi tali sono quelli, a chi è concesso alcuno Stato, o per danari, o per grazie di chi lo concede, come intervenne a molti in Grecia nella città di Ionia e dell'Ellesponto, dove furono fatti i Principi da Dario. A ciò li tenessero per sua sicurtà e gloria, come erano ancora fatti quelli imperlatori, che di privati per corruzione dei soldati pervenivano allo Imperio. Questi stanno semplicemente in su la volontà e fortuna di chi li ha fatti grandi, che sono due cose volubilissime e instabili, e non sanno e non possono tenere quel grado. Non sanno, perché se non è uomo di grande ingegno e virtù, non è ragionevole che, essendo sempre vissuti in privata fortuna, sappia comandare. Non possono, perché non hanno forze che li possino essere amiche e fedeli. Di poi gli stati che vengono subito, come tutte le altre cose della natura che nascono e crescono presto, non possono avere le radici e corrispondenze loro, in modo che il primo tempo avverso non le spenga. Se già quelli, come è detto, che sì in un subito sono diventati Principi, non sono di tanta virtù che quello che la fortuna ha messo loro in grembo, sappino subito prepararsi a conservare, e quelli fondamenti, che gli altri hanno fatti avanti, che diventino Principi, gli faccino poi. Io voglio all'uno e all'altro di questi modi, circa il diventare Principe per virtù o per fortuna, adurre duoi esempi stati nei dì della memoria nostra, e questi sono Francesco Sforza e Cesare Borgia. Francesco, per li debiti mezzi, e con una sua gran virtù, di privato diventò duca di Milano, e quello che con mille affanni aveva acquistato, con poca fatica mantenne. Dall'altra parte Cesare Borgia, chiamato dal vulgo duca Valentino, acquistò lo stato con la fortuna del padre, e con quella lo perdette, nonostante che per lui si usasse ogni opera, e facessi insi tutte quelle cose, che per un prudente e virtuoso uomo si dovevano fare, per mettere le radici sue in quelli stati, che l'armi e la fortuna di altri gli aveva concessi. Perché, come di sopra si disse, chi non fa i fondamenti prima, li potrebbe con una gran virtù fare di poi, ancorché si faccino con disagio dell'architettore e pericolo dello edificio. Se adunque si considererà tutti i progressi del duca, si vedrà quanto lui avesse fatto gran fondamenti alla futura potenzia, li quali non giudico superfluo discorrere, perché io non saprei quali precetti mi dare migliori a un Principe nuovo, che lo esempio delle azioni sue. E se gli ordini suoi non gli giovarono, non fu sua colpa, perché nacque da una straordinaria ed estrema malignità di fortuna. Aveva Alessandro VI nel voler far grande il duca, suo figliolo, assai difficoltà presenti e future. Prima non vedeva via di poterlo far Signore di alcuno Stato, che non fosse Stato di Chiesa. E sapeva che il duca di Milano e i viniziani non glielo consentirebbero, perché Faenza e Rimino erano già sotto la protezione dei viniziani. Vedeva, oltre a questo, le armi d'Italia, e quelle in spezie, di chi si fosse possuto servire, essere nelle mani di coloro che dovevano temere la grandezza del Papa. E però non se ne poteva fidare, essendo tutte negli orsini e colonnesi e loro seguaci. Era dunque necessario che si turbassero quelli ordini, e disordinare gli Stati d'Italia, per potersi insignorire sicuramente di parte di quelli. Il che gli fu facile, perché trovò i viniziani, che mossi da altre ragioni, si erano volti a far ripassare i francesi in Italia. Il che non solamente lo contraddisse, ma fece più facile con la risoluzione del matrimonio antico del re Luigi. Passò dunque il re in Italia, con l'aiuto dei viniziani e consenso di Alessandro. Ne prima fu in Milano, che il Papa ebbe da lui gente per l'impresa di Romagna, la quale gli fu consentita per la riputazione del re. Acquistata dunque il duca alla Romagna, e battuti i colonnesi, volendo tenere quella, a procedere più avanti, li impedivano due cose. L'una l'armi sue, che non gli parevano fedeli, l'altra la volontà di Francia, cioè temeva che l'armi Orsine, delle quali si era servito, non gli mancassero sotto, e non solamente gli impedissero l'acquistare, ma gli togliessero l'acquistato, e che il re ancora non gli facesse il simile. Degli Orsini ne ebbe uno riscontro, quando dopo l'espugnazione di Faenza assaltò Bologna, che gli vide andare freddi in quell'assalto. E circa il re coniobbe l'animo suo, quando, preso il ducato di Urbino, assaltò la Toscana, dalla quale imprese il re lo fece desistere, onde che il duca deliberò non dipendere più dalla fortuna e d'armi d'altri. E la prima cosa indebolì le parti Orsine e Colonnesi in Roma, perché tutti gli aderenti loro, che fossino gentiluomini, si guadagnò, facendogli suoi gentiluomini, che dando loro gran' provvisioni, gli onorò secondo le qualità loro, di condotte e di governi, in modo che in pochi mesi, negli animi loro, l'affezione delle parti si spense, e tutta si volse nel duca. Dopo questo aspettò l'occasione di spegnere gli Orsini, avendo dispersi quelli di Casa Colonna, la quale gli venne bene, ed egli usò meglio, perché avvedutisi gli Orsini tardi, che la grandezza del duca e della chiesa era la loro rovina, fecero una dieta a Magione nel Perugino. Da quella nacque la ribellione di Urbino, e li tumulti di Romagna, ed infiniti pericoli del duca, li quali superò tutti con l'aiuto de' Francesi. E ritornatogli la reputazione, né si fidando di Francia, né di altre forze esterne, per non la avere a cimentare, si volse agli inganni, e seppe tanto dissimulare l'animo suo, che gli Orsini, mediante il signor Paolo, si riconciliarono seco, con il quale il duca non mancò di ogni ragione di uffizio per assicurarlo, dandogli veste, danari e cavalli. Tanto che la semplicità loro gli condusse a Senigaglia nelle sue mani. Spente adunque questi capi, e ridotti di partigiani i loro amici suoi, aveva il duca agitati assai buoni fondamenti alla potenza sua, avendo tutta la Romagna con il ducato di Urbino, e guadagnatosi tutti quei popoli per aver incominciato a gustare il benessere loro. E perché questa parte è degna di notizia, e da essere imitata da altri, non voglio lasciarla indietro. Preso che ebbe il duca la Romagna, trovandola essere stata comandata da signori impotenti, quali piuttosto avevano spogliato i loro sudditi che correttoli, e dato loro più materia di disunione che di unione, tanto che quella provincia era piena di latrocini, di brighe, ed ogni altra sorta di insolenza. Giudicò necessario, a volerla ridurre Pacifica e obbediente al braccio regio, dargli un buon governo. Però vi propose Messer Ramiro d'Orco, uomo crudele ed espedito, al quale dette pienissima podetà, costui in breve tempo, la ridusse Pacifica e unita con grandissima reputazione. Di poi giudicò il duca, non essere a proposito sia eccessiva autorità, perché dubitava non diventasse odiosa, e preposevi un giudizio civile nel mezzo della provincia, con un presidente eccellentissimo, dove ogni città avea l'avvocato suo. E perché conosceva la rigorosità passata, e avergli generato qualche odio, per purgare gli animi di quelli popoli, e guadagnarseli in tutto, volse mostrare che se crudeltà alcuna era seguita, non era nata da lui, ma dalla cerba natura del ministro. E preso sopra questa occasione, lo fece mettere una mattina in duo pezzi a Cesene sulla piazza, con un pezzo di legno e un coltello sanguinoso accanto. La ferocità del quale spettacolo, fece quelli popoli in un tempo rimanere soddisfatti e stupidi. Ma torniamo ad onde noi partimmo. Dico, che trovandosi il duca assai potente, ed in parte assicurato da presenti pericoli, per essersi armato a suo modo, ed avere in buona parte spente quelle armi, che vicini lo potevano offendere, gli restava, volendo precedere con l'acquisto, il rispetto di Francia. Perché conosceva, che dal Re, il quale tardi si era veduto dell'ore suo, non gli sarebbe sopportato. E cominciò per questo a cercare amicizie nuove, e vacillare con Francia, nella venuta che fece gli francesi verso il regno di Napoli, contro gli spagnoli che asseddavano Gaeta. E l'animo suo era di assicurarsi di loro, e che già seria presto riuscito, se Alessandro viveva. E questi furono i governi suoi circa le cose presenti. Ma quanto alle future egli aveva da dubitare, prima che un nuovo successore alla Chiesa non gli fosse amico, e cercasse togli quello che Alessandro gli aveva dato, e pensò darle in quattro modi. Primo, con inspegnere tutti i sangui di quelli signori che egli aveva spogliato, per torre al Papa a quelle occasioni. Secondo, con guandagnarsi tutti i gentiluomini di Roma, per potere con quelli, come detto, tenere il Papa in freno. Terzo, con ridurre il collegio più suo che poteva. Quarto, con acquistare tanto imperio avanti che il Papa morisse, che potesse per sé medesimo resistere ad un primo impeto. Di queste quattro cose, alle morte di Alessandro, ne aveva condotte tre, la quarta aveva quasi per condotta, perché dei signori spogliati ne ammazzò quanti ne potè aggiungere, e pochissimi si salvarono. I gentiluomini romani si aveva guadagnato, e nel collegio aveva grandissima parte, e quanto al nuovo acquisto aveva disegnato diventare signore di Toscana, e possedeva già Perugia e Piombino, e di Pisa aveva preso la protezione. E come non avesse dovuto aver rispetto a Francia, che non glien aveva ad aver più, per essere già i francesi spogliati del Regno di Napoli dagli Spagnoli, in forma che ciascun di loro era necessitato di comperare un'amicizia sua, saltava in Pisa. Dopo questo, Luca e Siena cedeva subito, parte per invidia di Fiorentini, e parte per paura. I Fiorentini non avevano rimedio, il che, se gli fosse riuscito, che gli riusciva l'anno medesimo che Alessandro morì, si acquistava tante forze e tanta reputazione, che per sé stesso si sarebbe retto, senza dipendere dalla fortuna a forza d'altri, ma solo dalla potenza e virtù sua. Ma Alessandro morì dopo cinque anni, che egli aveva incominciato a trarre fuori la spada. Nasciollo con lo Stato di Roma, solamente assolidato, con tutti gli altri in aria, intra due potentissimi eserciti nemici, ammalato a morte. Ed era nel Duca tanta feroce e tanta virtù, e si ben conosceva come gli uomini si abbino a guadagnare o perdere, e tanto erano validi i fondamenti, che in sì poco tempo si aveva fatti, che se non avesse avuto quegli eserciti addosso, o fusse stato sano, avrebbe retto ad ogni difficoltà. E che li fondamenti suoi fossino buoni, si vide che la Romagna l'aspettò più di un mese. In Roma ancora che mezzo morto, stette sicuro. E benché i baglioni, vitelli e orsini, venissero in Roma, non ebbero seguito contro di lui. Poté fare, se non chi egli volle, almeno che non fusse papa chi egli non voleva. Ma se nella morte di Alessandro fusse stato sano, ogni cosa gli era facile. Ed egli mi disse, nel dì che fu creato Giulio II, che avea pensato a tutto quello che potesse nascere morendo il padre, e a tutto aveva trovato rimedio, eccetto che non pensò mai sulla sua morte, di stare ancora a lui per morire. Raccolte adunque tutte queste azioni del duca, non saprei riprenderlo, anzi mi pare come io ho fatto di proporlo ad imitare a tutti coloro che per fortuna e con larmi d'altri, sono saliti all'imperio. Perché egli, avendo l'animo grande e la sua intenzione alta, non si poteva governare altrimenti, e solo si oppose agli suoi disegni la brevità della vita di Alessandro e la sua infermità. Chi adunque giudica necessario nel suo Principato nuovo, assicurarsi degli nemici, guadagnarsi amici, vincere o per forza o per fraude, farsi amare e temere da popoli, seguire e riverire da soldati, spegnere quelli che ti possono o debbono offendere, e innovare con nuovi modi gli ordini antichi, essere severo e grato, magnanimo e liberale, spegnere la milizia infedele, creare della nuova, mantenersi le amicizie del Re e degli Principi, in modo che ti abbiano a beneficare con grazia, o ad offendere con rispetto, non può trovare più freschi esempi che le azioni di costui. Solamente si può accusarlo nella creazione di Giulio II, nella quale egli ebbe male lezione. Perché, come detto, non potendo fare un papa a suo modo, poteva tenere che uno non fosse papa, e non dovea consentire mai al papato di quelli cardinali, che lui avesse offesi, o che diventati pontifici, avessino ad avere paura di lui. Perché gli uomini offendono, o per paura, o per odio. Quelli che egli aveva offesi erano, tra gli altri, San Pietro ad Vincola, Colonna, San Giorgio, Ascanio. Tutti gli altri assunti al Pontificato avevano da temerlo, eccetto Roano e gli Spagnoli. Questi per congiuzione obbligo, quello per potenza, avendo congiunto seco il Regno di Francia. Pertanto il duca, innanzi d'ogni cosa, dovea creare papa uno spagnolo, e non potendo, dovea consentire che fosse Roano, e non San Pietro ad Vincola. E chi crede che ne personaggi grandi i benefici nuovi facciano dimenticare le ingiure vecchie, si inganna. Errò adunque il duca in questa lezione, e fu cagione dell'ultima rovina sua. Fine del Capitolo sette Capitolo otto Di quelli che per scelleratezze sono pervenuti al Principato. Ma perché di privato si diventa ancora in due modi Principe, e che non si può al tutto o alla fortuna o alla virtù attribuire, non mi pare da lasciargli indietro, ancora che dell'uno si possa più diffusamente ragionare, dove si trattasse delle Repubbliche. Questi sono quando o per qualche via scelerata e nefaria si ascende al Principato, o quando uno privato cittadino col favore degli altri suoi cittadini diventa Principe della sua Patria. E parlando del primo modo, si mostrerà con due esempi, l'uno antico o l'altro moderno, senza entrare altrimenti nei meriti di questa parte, perché giudico che bastino a chi fosse necessitato imitargli. Agatocle siciliano, non solo di privata, ma d'infima abietta fortuna, divenne re di Siracusa. Costui, nato di un orciolaio, tenne sempre per i gradi della sua fortuna vita scellerata. Non di manco accompagnò le sue scelleratezze con tanta virtù di animo e di corpo, che voltosi alla milizia, per i gradi di quella pervenne ad essere pretore di Siracusa. Nel qual grado, essendo costituito, ed avendo deliberato volere diventare Principe, e tenere con violenza e senza obbligo d'altri quello che d'accordo gli era stato concesso, ed avuto di questo suo disegno intelligenza con la milcare cartaginese, il quale con gli eserciti militava in Sicilia, congregò una mattina il popolo ed il senato di Siracusa, come se egli avesse avuto a deliberare cose pertinenti alla Repubblica. E da un cenno ordinato, fece dai suoi soldati uccidere tutti gli senatori, li più ricchi del popolo, i quali morti occupò e tenne il Principato di quella città senza alcuna controversia civile. E benché da Cartaginesi fosse due volte rotto, e ultimamente assediato, non solamente poté difendere la sua città, ma lasciata parte della sua gente alla difesa di quella, con l'altre assaltò l'Africa, e in breve tempo liberò Siracusa dall'assedio, e condusse i Cartaginesi in estrema necessità. I quali furono necessitati ad accordarsi con quello, ad essere contenti della possessione dell'Africa, e ad Agatocle lasciare la Sicilia. Chi considerasse adunque le azioni virtù di costui, non vedria cose o poche, le quali possa attribuire alla fortuna, conciossia che, come di sopra è detto, non per favore di alcuno, ma per gli gradi della milizia, quali con mille disagio e pericoli, si aveva guadagnato, pervenisse al Principato, e quello di poi con tanti animosi partiti pericolosi mantenesse. Non si può chiamare ancora virtù, ammazzare gli suoi cittadini, tradire gli amici, essere senza fede, senza pietà, senza religione, di quali modi possono far acquistare imperio, ma non gloria. Perché se si considerasse la virtù di Agatocle nell'entrare nell'uscire dei pericoli, e la grandezza dell'animo suo nel sopportare e superare le cose avverse, non si vede perché egli abbia ad essere tenuto inferiore a qualsiasi eccellentissimo Capitano. Nondimeno la sua efferata crudeltà ed inumanità, con infinite scelleratezze, non consentono che sia tra gli eccellentissimi uomini celebrato. Non si può adunque attribuire alla fortuna o la virtù quello che senza l'una e l'altra fu da lui conseguito. Nei tempi nostri, regnante Alessandro VI, Oliverotto da Fermo, essendo più anni e addietro rimaso piccolo, fu da uno suo zio materno, chiamato Giovanni Fogliani, allevato, e nei primi tempi della sua gioventù, dato a militare sotto Paolo Vitelli, a ciò che eri pieno di quella disciplina, per venisse a qualche grado eccellente di milizia. Morto di poi Paolo, militò sotto Vitellozzo suo fratello, ed in brevissimo tempo, per essere ingegnoso, e della persona e dell'animo gagliardo, diventò dei primi uomini della sua milizia. Ma parendogli cosa servire lo stare con altri, pensò con l'aiuto di alcuni cittadini di Fermo, a quali era più cara la servitù che la libertà della loro patria, e con il favore vitellesco di occupare Fermo, e scrisse a Giovanni Fogliani, come essendo stato più anni fuor di casa, voleva venire a vedere lui e la sua città, e in qualche parte riconoscere il suo patrimonio. E perché non si era affaticato, per altro, che per acquistare onore, a ciò che i suoi cittadini vedessero come non aveva speso il tempo in vano, voleva venire onorevolmente, ed accompagnato da cento cavalli di suoi amici e servitori, e pregavolo che fosse contento ordinare, che da Fermani fosse ricevuto onoratamente, il che non solamente tornava onore a lui, ma a sé proprio, essendo suo allievo. Non mancò pertanto Giovanni di alcun uffizio debito verso il nipote, e, fatto lo ricevere onoratamente da Firmani, alloggiò nelle case sue, dove, passato alcuno giorno, era attesa a ordinare quello che alla sua futura sceleratezza era necessario, fece un convito solennissimo, dove invitò Giovanni Fogliani e tutti li primi uomini di Fermo. Ed avuto che ebbero fine le vivande, e tutti gli altri intrattenimenti che in simili conviti si fanno, Oliverotto ad arte mosse certi ragionamenti gravi, parlando della grandezza di Papa Alessandro, e di Cesare suo figliolo, e delle imprese loro. A li quali ragionamenti, rispondendo Giovanni e gli altri, egli a un tratto si rizzò, dicendo quelle essere cose da parlarne in più segreto luogo, e ritirossi in una camera, dove Giovanni e tutti gli altri cittadini gli andarono dietro. Né prima furono posti a sedere, che da luoghi segreti di quella uscirono soldati che ammazzarono Giovanni e tutti gli altri. Dopo il quale l'omicidio montò Oliverotto a cavallo, e corse la terra, ed assediò nel palazzo il supremo magistrato, tanto che per paura furono costretti a ubbidirlo, e fermare un governo del quale si fece principe. E morti tutti quelli, che per essere malcontenti lo potevano offendere, si corroborò con nuovi ordini civili e militari, in modo che in spazio di un anno che tenne principato, non solamente egli era sicuro nella città di Fermo, ma era diventato formidabile a tutti gli suoi vicini, e sarebbe stata la sua espugnazione difficile, come quella di Agatocle, se non si fusse lasciato ingannare da Cesare Borgia, quando a Senegaglia, come di sopra si disse, prese gli Orsini e i Vitelli, dove preso ancora lui, un anno dopo il commesso parricidio, fu insieme con Vitellozzo, il quale aveva avuto maestro delle viltù, e sceleratezze sue, strangolato. Potrebbe alcuno dubitare, donde nascesse, che Agatocle, ed alcuno simile, dopo infiniti tradimenti e crudeltà, potette vivere lungamente sicuro nella sua patria, e difendersi dagli nemici esterni, e dai suoi cittadini, non gli fu mai conspirato contro. Conciossi a che molti altri, mediante la crudeltà, non abbino mai possuto ancora nei tempi pacifici mantenere lo Stato, non che nei tempi dubbiosi di guerre. Credo che questo avvenga dalle crudeltà male o bene usate. Bene usate si possono chiamare quelle, se del male è lecito dire bene, che si fanno una sol volta per necessità dell'assicurarsi, e di poi non vi si insiste dentro, ma si convertiscono in più utilità dei sudditi che si può. Le male usate sono quelle, quelle ancora che da principio siano poche, crescono piuttosto col tempo, che le si spenghino. Coloro che osserveranno quel primo modo, possono con Dio e con gli uomini allo Stato loro, avere qualche rimedio, come ebbe Agatocle. Quegli altri è impossibile che si mantenghino. Onda è da notare, che nel pigliare uno Stato, debbe l'occupatore di esso discorrere e fare tutte le crudeltà in un tratto, e per non avere a ritornarvi ogni di, e per potere, non li innovando, assicurare gli uomini e guadagnarseli con beneficarli. Chi fa altrimenti, per timidità o per mal consiglio, è sempre necessitato a tenere il coltello in mano, né mai si può affondare sopra i suoi sudditi, non si potendo quelli, per le continue e fresche ingiurie, assicurare di lui. Perché le ingiurie si debbono fare tutte insieme, a ciò che assaporandosi meno, offendino meno. Gli benefici si debbono fare a poco a poco, a ciò che si assaporino meglio. E deve soprattutto un Principe vivere con gli suoi sudditi, in modo che nessun accidente, o di male o di bene, lo abbia a far variare. Perché venendo per li tempi avversi la necessità, tu non sei a tempo al male, e il bene che tu fai non ti giova, perché è giudicato forzato, e non grado alcuno ne riporti. Fine del Capitolo otto Capitoli da nove a undici De Il Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni, o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo nove Del Principato Civile Ma venendo all'altra parte, quando un Principe cittadino, non per scelleratezza o altra intollerabile violenza, ma con il favore degli altri suoi cittadini diventa Principe della sua patria, il qual si può chiamare il Principato Civile, né al pervenirvi è necessario o tutta virtù o tutta fortuna, ma piuttosto un'astuzia fortunata, dico, che si ascende a questo Principato, o col favore del popolo, o col favore dei grandi. Perché in ogni città si trovano questi due umori diversi, e nascono da questo, che il popolo desidera non essere comandato né oppresso da grandi, e i grandi desiderano comandare e opprimere il popolo. E da questi due appetiti diversi, surge nelle città uno dei tre effetti, o Principato, o Libertà, o Licenza. Il Principato è causato o dal popolo, o da grandi, secondo che l'una o l'altra di queste parti ne ha l'occasione. Perché vedendo i grandi non poter resistere al popolo, cominciano a voltare la reputazione ad uno di loro, e lo fanno Principe, per poter sotto l'ombra sua sfogare l'appetito loro. Il popolo ancora volta la reputazione ad un solo, vedendo non poter resistere agli grandi, e lo fa Principe, per essere con l'autorità sua difesa. Colui che viene al Principato con l'aiuto dei grandi, si mantiene con più difficoltà che quello che diventa con l'aiuto del popolo. Perché si trova Principe con di molti intorno che a loro pare essere uguali a lui, e per questo non gli può né comandare né maneggiare a suo modo. Ma colui che arriva al Principato con il favor popolare, vi si trova solo, e ad intorno o nessuno o pochissimi che non siano parati ad ubbidire. Oltre a questo non si può con onestà satisfare grandi, e senza ingiura d'altri, ma si bene al popolo, perché quello del popolo è più onesto fine che quel de' grandi, volendo questi opprimere, e quello non essere oppresso. Aggiungesi ancora, che del popolo nemico il Principe non si può mai assicurare per essere troppi, de' grandi si può assicurare per essere pochi. Il peggio che possa aspettare un Principe dal popolo nemico, è l'essere abbandonato da lui. Ma da grandi nemici non solo debbe temere di essere abbandonato, ma che ancor loro gli venghino contro, perché essendo in quelli più vedere e più astuzia, avanzano sempre tempo per salvarsi, e cercano gradi con quello che sperano che vinca. E' necessitato ancora il Principe vivere sempre con quel medesimo popolo, ma può ben fare senza quelli medesimi grandi, potendo farne e disfarne ogni di, e torre dare, quando gli piace, reputazione loro. E per chiarire meglio questa parte, dico come i grandi si debbono considerare in duo modi principalmente, cioè o si governano in modo col procedere loro, che si obbligano in tutto la tua fortuna, o no. Quelli che si obbligano, e non siano rapaci, si debbono onorare ed amare, quelli che non si obbligano, si hanno a considerare in duo modi, o fanno questo per pusillanimità, e difetto naturale d'animo, ed allora ti debbi servir di loro, e di quelli massime che sono di buon consiglio, perché nelle prosperità te ne onori, e nelle avversità non hai da temere. Ma quando non si obbligano ad arte, e per cagione ambiziosa, è segno come pensano più a sé che a te, ed a quelli si deve il Principe guardare, e tenergli come se fossero scoperti nemici, perché sempre nelle avversità aiuteranno a rovinare. Debbe pertanto uno che diventa Principe per favore del popolo, mantenerselo amico, il che gli fia facile, non domandando lui, se non di non essere oppresso. Ma uno che contro il popolo diventi il Principe con il favore dai grandi, deve innanzi ogni altra cosa cercare di guadagnarsi il popolo, il che gli fia facile, quando pigli la protezione sua. E perché gli uomini, quando hanno bene da chi credevano aver male, si obbligano più al beneficatore loro, diventa il popolo suddito più suo benevolo, che se si fosse condotto al Principato per i suoi favori. E può solo il Principe guadagnare in molti modi, di quali, perché varino secondo il soggetto, non se ne può dare certa regola, però si lasceranno indietro. Conchiuderò solo, che ad un Principe è necessario avere il popolo amico, altrimenti non ha nelle avversità rimedio. Nabide, Principe degli Spartani, sostenne l'ossidione di tutta la Grecia, e di un esercito romano vittoriosissimo, e difese contro a quelli la patria sua e il suo Stato, e gli bastò solo, sopravenendo il pericolo, assicurarsi di pochi. Che se egli avesse avuto il popolo nemico, questo non gli bastava. E non sia alcuno che ripugna questa mia opinione con quel proverbio trito, che chi fonde in sul popolo, fonde in sul fango. Perché quello è vero quando un cittadino privato vi fa su fondamento, e dassi ad intendere che il popolo lo liberi quando esso fosse oppresso dagli nemici o dai magistrati. In questo caso si potrebbe trovare spesso ingannato, come intervenne in Roma a Gracchi, ed in Firenze a Messer Giorgio Ascali. Ma essendo un Principe quello che sopra vi si fonda, che possa comandare, e sia un uomo di cuore, né si sbigottisca nelle avversità, e non manchi delle altre preparazioni, e tenga con l'anime ordini suoi animato l'universale, non si troverà ingannato da lui, e gli parrà aver fatti i suoi fondamenti buoni. Sogliano questi Principati periclitare quando sono per salire dall'ordine civile allo assoluto. Perché questi Principi o comandano per loro medesimi o per mezzo dei magistrati. Nell'ultimo caso è più debole e più pericoloso lo Stato loro, perché egli stanno al tutto con la volontà di quelli cittadini che sono preposti a magistrati, gli quali, massimamente nei tempi avversi, gli possono torre con facilità grande lo Stato, o con fargli contro, o col non l'ubbidire. E il Principe non è a tempo né pericoli a pigliare l'autorità assoluta, perché gli cittadini e sudditi, che sogliono avere gli comandamenti da magistrati, non sono in quelli frangenti per ubbidire suoi, e rà sempre nei tempi dubbi penuri di chi si possa fidare. Perché il simil Principe non può fondarsi sopra quello che vede nei tempi quieti, quando i cittadini hanno bisogno dello Stato, perché allora ognuno corre, ognuno promette, e ciascuno vuole morire per lui quando la morte è discosto. Ma nei tempi avversi, quando lo Stato ha bisogno de cittadini, allora se ne trova pochi, e tanto più è questa esperienza pericolosa, quanto la non si può fare se non una volta. Però un Principe Savio deve pensare un modo, per il quale di suoi cittadini sempre, in ogni modo e qualità di tempo, abbino bisogno dello Stato di lui, e sempre poi gli saranno fedeli. Fine del Capitolo Nove Capitolo Dieci In che modo le forze di tutti i Principati si debbino misurare Conviene avere, nell'esaminare le qualità di questi Principati, un'altra considerazione. Cioè se un Principe ha tanto Stato, che possa, bisognando, per sé medesimo reggersi, ovvero se ha sempre necessità della defensione d'altri. E per chiarire meglio questa parte, dico, come io giudico potersi coloro reggere per sé medesimi, che possono, o per abbondanza d'uomini o di danari, mettere insieme un esercito giusto, e fare una giornata con qualunque li viene da assaltare. E così giudico coloro aver sempre necessità d'altri, che non possono comparire contro gli nemici in campagna, ma sono necessitati rifugirsi dentro alle mura, e guardare quelle. Nel primo caso si è discorso, e per l'avvenire diremo quello che ne occorre. Nel secondo caso non si può dire altro, salvo che confortare tali Principi a munire e fortificare la terra propria, e del Paese non tenere alcun conto. E qualunque harà bene fortificata la sua terra, e circa gli altri governi con i sudditi si sia maneggiato, come di sopra è detto, e di sotto si dirà, sarà sempre assaltato con gran rispetto, perché gli uomini sono sempre nemici delle imprese, dove si vegga difficoltà. Né si può vedere facilità, assaltando uno che abbia la sua terra gagliarda, e non sia odiato dal popolo. Le città d'Alemagna sono liberissime, hanno poco contato, e ubbidiscono all'imperatore quando lo vogliono, e non temono né questo né altro potente che l'abbino intorno, perché le sono in modo fortificate, che ciascuno pensa l'espugnazione di esse dover essere tediosa e difficile, perché tutte hanno fossi in mura conveniente, hanno artiglieria a sufficienza, e tengono sempre nelle canove pubbliche da mangiare e da bere, e da ardere per un anno. Ed oltre a questo, per potere tenere la plebe pasciuta e senza perdita del pubblico, hanno sempre in comune per un anno da poter dar loro da lavorare in quegli esercizi che siano il nervo e la vita di quella città, e dell'industria de quali la plebe si pasca. Tengono ancora gli esercizi militari in imputazione, e sopra questo hanno molti ordini a mantenerli. Un Principe adunque che abbia una città forte, e non si faccia odiare, non può essere assaltato. E se pur fusse chi lo assaltasse, se ne partirebbe con vergogna. Perché le cose del mondo sono si varie, che egli è quasi impossibile che uno possa con gli eserciti stare un anno ozioso e campeggiarlo. E chi replicasse, se il popolo harà le sue possessioni fuora, e venga le ardere non harà pazienza, e lunga sedia la carità propria gli farà dimenticare il Principe, rispondo che un Principe potente ed animoso supererà sempre quelle difficoltà. Dando ora speranza a sudditi che il male non sia lungo, ora timore della crudeltà del nemico, ora assicurandosi con destrezza di quelli che gli paressero troppo arditi. Oltre a questo, il nemico debbe ragionevolmente ardere e rovinare il paese loro in su la giunta sua, e nei tempi quando gli animi degli uomini sono ancora caldi, e volenterose la difesa. E però tanto meno il Principe debbe dubitare, perché dopo qualche giorno che gli animi sono raffredditi, sono di già fatti danni, sono ricevuti mali, e non vi è più rimedio. Ed allora tanto più si vengono ad unire con loro Principe, parendo che esso abbia con loro obbligo, essendo state loro arse le case, e rovinate le possessioni per la difesa sua. E la natura degli uomini è così obbligarsi per i benefici che essi fanno, come per quelli che essi ricevano. Onde, se si considera bene tutto, non fia difficile a un Principe prudente tenere prima e poi fermi gli animi dei suoi cittadini nell'ossidione, quando non gli manchi da vivere né da difendersi. Fine del Capitolo Dieci Capitolo Undici De Principati Ecclesiastici Restaci solamente al presente a ragionare dei Principati Ecclesiastici, circa i quali tutte le difficoltà sono avanti che si posseghino, perché si acquistano o per virtù o per fortuna, e senza l'una e l'altra si mantengono, perché sono sostentati dagli ordini anticati nella Religione, quali sono tutti potenti, e di qualità che tengono i loro Principi in stato in qualunque modo si procedino e vivino. Lo storo soli hanno Stati e non li difendono, hanno sudditi e non li governano, e gli Stati, per essere indifesi, non sono loro tolti, ed i sudditi, per non essere governati, non se ne curano, ne pensano, ne possono alienarsi da loro. Solo adunque questi Principati sono sicuri e felici. Ma essendo quelli retti da cagioni superiori, alle quali la mente umana non aggiugne, lascerò il parlarne, perché essendo esaltati e mantenuti da Dio, sarebbe ufficio d'uomo presuntuoso e temerario il discorrerne. Non di manco, se alcuno mi ricerca donde viene che la Chiesa nel temporale sia venuta a tanta grandezza, conciossi a che da Alessandro indietro i potentati Italiani, e non solamente quelli che si chiamano potentati, ma ogni Barone Signore benché minimo, quanto al temporale, la stimava poco. E ora un Re di Francia ne trema, e l'ha potuto cavare d'Italia, e rovinare i Veneziani. Ancora che ciò noto sia, non mi pare superfluo ridurlo in qualche parte alla memoria. Avanti che Carlo Re di Francia passasse in Italia, era questa provincia sotto l'imperio del Papa, Veneziani, Re di Napoli, Duca di Milano, e Fiorentini. Questi potentati avevano ad avere due cure principali, l'una che un forestiero non entrasse in Italia con larmi, l'altro che nessuno di loro occupasse più Stato. Quelli, a chi s'aveva più cura, erano il Papa e i Veneziani, ed a tenere addietro i Veneziani bisognava l'unione di tutti gli altri, come fu nella difesa di Ferrara. E a tenere basso il Papa, si servivano dei Baroni di Roma, gli quali, essendo divisi in due fazioni, Orsini e Colonesi, sempre avere cagione di scandoli tra loro, e stando con l'arma in mano in sugli occhi del Pontefice, tenevano il Pontificato debole ed infermo. E benché surgesse qualche volta un Papa animoso, come fu Sisto, pure la fortuna o il sapere non lo poté mai disobbligare da questa incomodità. E la brevità della vita loro ne era cagione, perché in dieci anni che ragguegliato viveva un Papa, a fatica che potesse abbassare l'una delle fazioni, e se per modo di parlare l'uno aveva quasi spenti i Colonesi, surgeva un altro nemico agli Orsini, che gli faceva risorgere, e non era a tempo a spegnerli. Questo faceva che le forze temporali del Papa erano poco stimate in Italia. Surse di poi Alessandro VI, il quale di tutti gli Pontefici, che sono stati mai, mostrò quanto un Papa, e col danaio, e con le forze, si poteva prevalere, e fece con l'istrumento del Duca Valentino, e con l'occasione della passata dei Francesi, tutte quelle cose che io ho discorso di sopra nelle azioni del Duca. E benché l'intento suo non fusse di fare grande la Chiesa, ma il Duca, non di meno a ciò che fece, tornò in gradezza della Chiesa, la quale dopo la sua morte spento il Duca, fu erede delle fatiche sue. Venne di poi Papa Iulio, e trovò la Chiesa grande, avendo tutta la Romagna, ed essendo spenti tutti gli baroni di Roma, e per le battitue d'Alessandro annullate quelle fazioni. E trova ancora la via aperta al modo dell'accumulare denari, non mai più usitato da Alessandro indietro, le quali cose Iulio non solamente seguitò, ma accrebbe, e pensò guadagnarsi Bologna, e spegnere i Veneziani, e cacciare i Francesi d'Italia, e tutte queste imprese gli riuscirono, e con tanta più sua laude, quanto fece ogni cosa per accrescere la Chiesa, e non alcun privato. Mantegne ancora le parti orsine e colonnese in quelli termini che le trovò, e benché tra loro fusse qualche capo da fare alterazione, niente di meno due cose gli ha tenuti fermi. L'una la grandezza della Chiesa che gli sbigottisce, l'altra in non avere loro cardinali, quali sono origini di tumulti tra loro. Nemai staranno quiete queste parti qualunque volta abbino cardinali, perché questi nutriscono in Roma e fuori le parti, e quelli baroni sono forzati a difenderli. E così, dall'ambizione dei prelati, nascono le discordie e tumulti tra baroni. Ha trovato adunque la santità di Papa Leone questo pontificato potentissimo, del quale si spera che se quelli lo fecero grande con larmi, esso con la bontà infinite e altre sue virtù lo farà grandissimo, e venerando. Fine del Capitolo undici Capitoli da dodici a tredici Dei il Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo dodici Quante siano le spezie della milizia, e dei soldati mercenari Avendo discorso particolarmente tutte le qualità di quelli principati, dei quali nel principio proposi di ragionare, e considerato in qualche parte le cagioni del bene e del mare essere loro, e mostro i modi con li quali molti hanno cerco da acquistarli e tenerli, mi resta ora discorrere generalmente le offese e difese che in ciascuno dei pre nominati possono accadere. Noi abbiamo detto di sopra come ad un Principe è necessario avere gli suoi fondamenti buoni. Altrimenti di necessità conviene che rovini. I principali fondamenti che abbiano tutti gli Stati, così nuovi come vecchi o misti, sono le buone leggi e le buone armi. E perché non possono essere buone leggi dove non sono buone armi, e dove sono buone armi conviene che siano buone leggi? Io lascerò indietro il ragionare delle leggi, e parlerò dell'armi. Dico adunque che l'armi con le quali un Principe difende il suo Stato, o le sono proprie, o le sono mercenarie, o ausiliari, o miste. Le mercenarie ed ausiliari sono inutili e pericolose. E se uno tiene lo Stato suo fondato in sull'armi mercenarie, non sarà mai fermo né sicuro, perché le sono disunite, ambiziose, e senza disciplina. Infedeli, gagliarde tra gli amici, tra gli nemici vili. Non hanno timore di Dio, non fede con gli uomini, e tanto si differisce la rovina, quanto si differisce l'assalto. E nella pace si è spogliato da loro, nella guerra da nemici. La cagione di questo è, che non hanno altro amore né altra cagione che le tenga in campo, che è un poco di stipendio, il quale non è sufficiente a fare che vogliono morire per te. Vogliono bene essere i tuoi soldati, mentre che tu non fai guerra, ma come la guerra viene, o fuggirsi o andarsene. Da qualcosa dovrei durare poca fatica a persuadere, perché la rovina d'Italia non è ora causata da altra cosa, che per essere in spazio di molti anni riposatasi in sull'armi mercenarie, le quali fecero già per qualcuno qualche progresso, e parevano gagliarde tra loro, ma come venne il forestiero? Però, elle mostrarono quello che l'erano. Onde è, che a Carlo, re di Francia, fu lecito pigliare Italia col gesto? E chi diceva che ne erano cagione i peccati nostri, diceva il vero, ma non erano già quelli che credeva, ma questi che ho narrato. E perché gli erano peccati di Principe, ne hanno patita la pena ancora loro. Io voglio dimostrare meglio la infelicità di queste armi. I capitani mercenari o sono uomini eccellenti o no. Se sono, non te ne puoi fidare, perché sempre aspirano alla grandezza propria, o con l'opprimere te, che gli sei padrone, o con l'opprimere altri fuori della tua intenzione. Ma se non è il capitano virtuoso, ti rovina per l'ordinario. E se si risponde che qualcuno ha l'arma in mano, farà questo medesimo o mercenario o no, replicherei come l'armi hanno ad essere adoperate o da un Principe, o da una Repubblica. Il Principe deve andare in persona, e fare lui l'ufficio del Capitano. La Repubblica ha da mandare i suoi cittadini, e quando ne manda uno che non riesca valente, debbe cambiarlo, e quando sia, tenerlo con le leggi, che non passi il segno. E per esperienza si vede i Principi soli, e le Repubbliche armate, fare progresse grandissimi, e larmi mercenarie non fare mai se non danno. E con più difficoltà viene all'obbedienza di un suo cittadino una Repubblica armata di armi proprie, che un'armata d'armi forestiere. Sterano Roma e Sparta molti secoli armate e libere. Gli Svizzeri sono armatissimi e liberissimi. Delle armi mercenarie antiche, per esempio, ci sono gli Cartaginesi, i quali furono per essere oppressi da loro soldati mercenari, finite la prima guerra con i Romani, ancorché i Cartaginesi avessero per capitani i propri cittadini. Filippo Macedone fu fatto da Tebani dopo la morte di Epaminonda, capitano della loro gente, e tolse loro dopo la vittoria la libertà. I Milanesi, morto il Duca Filippo, soldarono Francesco Sforza contro i Veneziani. Il quale, superati gli nemici a Caravaggio, si congiunse con loro per opprimere i Milanesi e i suoi padroni. Sforza suo padre, essendo soldato della Regina Giovanna di Napoli, la lasciò in un tratto disarmata, onde ella, per non perdere il regno, fu costretta a gettarsi in grembo al re d'Aragona. E se i Veneziani e i Fiorentini hanno accresciuto per là dietro lo imperio loro con quest'armi, e li loro capitani non se ne sono però fatti principi, ma li hanno difesi, rispondo che gli Fiorentini in questo caso sono stati favoriti dalla sorte, perché dei capitani virtuosi, li quali potevano temere, alcuni non hanno vinto, alcuni hanno avuto posizioni, altri hanno volto la l'ambizione loro altrove. Quello che non vinse fu Giovanni acuto, del quale, non vincendo, non si poteva conoscere la fede, ma ognuno confesserà che, vincendo, stavano i Fiorentini a sua discrezione. Sforza ebbe sempre i Braccheschi contrari, che guardarono l'uno l'altro, Francesco volse l'ambizione sua in Lombardia, braccio contro la Chiesa e il Regno di Napoli. Ma veniamo a quello che è seguito poco tempo fa. Fecero i Fiorentini Paolo Vitelli il loro Capitano, uomo prudentissimo, e che di privata fortuna aveva preso reputazione grandissima. Se costui spugnava Pisa, veruno fia che neghi, come conveniva a Fiorentini stare seco. Perché se fosse diventato soldato dei loro nemici, non avevano rimedio, e tenendolo, avevano a dubidirlo. I Veneziani, se si considera i progressi loro, si vedrà quelli sicuramente e valorosamente avere operato, mentre che feciano guerra i loro propri, che fu avanti che si volgessino con l'impresa in terra, dove con i gentiluomini e con la plebe armata operarono virtuosamente. Ma come cominciarono a combattere in terra, lasciarono questa virtù, e seguitarono i costumi d'Italia. E nel principio dell'augumento loro in terra, per non avere molto Stato, e per essere in gran reputazione, non avevano da temere molto dei loro Capitani. Ma come essi ampliarono, che fu sotto il Carmignola, ebbono un saggio di questo errore. Perché vedutolo virtuosissimo, battuto che ebbero sotto il suo Governo il Duca di Milano, e conoscendo dall'altra parte, come egli era freddo nella guerra, giudicarono non potere più vincere con lui, perché non volevano né potevano licenziarlo, per non perdere ciò che avevano acquistato. Onde che furono necessitati, per assicurarsi, di ammazzarlo. Hanno di poi avuto per loro Capitani Bartolomeo da Bergamo, Roberto da San Severino, il conte di Pitigliano, e simili, con li quali avevano da temere della perdita, non del guadagno loro. Come intervenne di poi a Vailà, dove in una giornata perderono quello che in ottocento anni con tante fatiche avevano acquistato. Perché da queste armi nascono solo i lenti, tardi e deboli acquisti, e le subite e miracolose perdite. E perché io sono venuto con questi esempi in Italia, la quale è stata governata già da molti anni dall'armi mercenarie, le voglio discorrere più da alto. A ciò che, veduta l'origine e progressi di esse, si possono meglio correggere. Avete da intendere come, tosto che in questi ultimi tempi l'imperio cominciò a essere riputato d'Italia, e che il Papa nel temporale vi prese più reputazione, si divise l'Italia in più Stati. Perché molte delle città grosse presono l'armi contro i loro nobili, di quali prima favoriti dall'imperatore le tenevano oppresse, e la Chiesa le favoriva per darsi reputazione del temporale. Di molte altre i loro cittadini ne diventarono principi. Ondechè, essendo venuta d'Italia quasi in mano della Chiesa, e di qualche Repubblica, ed essendo quelli preti e quelli altri cittadini usi a non conoscere l'armi, incominciarono a soldare forestieri. Il primo che dette riputazione a questa Milizia fu Alberigo da Como Romagnuolo. Dalla disciplina di costui discese, tra gli altri, braccio e sforza, che nei loro tempi furono arbitri d'Italia. Dopo questi vennero tutti gli altri, che fino ai nostri tempi hanno governate l'armi d'Italia, ed il fine delle loro virtù è stato che quella è stata corsa da Carlo, predata da Luigi, forzata da Ferrando, e vituperata da Svizzeri. L'ordine che loro hanno tenuto, è stato, prima di dare reputazione a loro propri, aver tolto reputazione alle fanterie. Feciano questo, perché essendo senza Stato, e in sulla industria, i pochi fanti non davano loro reputazione, e gli assai non potevano nutrire, e però si ridussero a cavalli, dove con numero sopportabile erano nutriti e onorati. Ed erano le cose ridotte in termine, che in un esercito di ventimila soldati non si trovavano duemila fanti. Avevano, oltre a questo, usato ogni industria per levar via a sé, e a soldati, la fatica e la paura, non s'ammazzando nelle zuffe, ma pigliandosi prigione e senza taglia. Non traevano di notte alle terre, quelli delle terre non traevano di notte alle tende, non facevano intorno al campo né steccato né fossa, non campengiavano il verno. E tutte queste cose erano permesse nei loro ordini militari, e trovate da loro per fuggire, come detto, e la fatica e i pericoli, tanto che essi hanno condotte Italia schiava e vituperata. Fine del Capitolo dodici Capitolo tredici De soldati ausiliari, misti e propri L'armi ausiliarie, che sono le altre armi inutili, sono quando si chiama un potente, che con l'armi sue ti venga ad aiutare a difendere, come fece nei prossimi tempi Papa Julio, il quale, avendo visto nell'impresa di Ferrara la trista prova delle sue armi mercenarie, si rivolse alle ausiliari, e convenne con Ferrandore di Spagna, che con le sue genti ed eserciti, doveva dovesse aiutarlo. Queste armi possono essere utile e buone per loro medesime, ma sono per chi le chiama sempre dannose, perché perdendo rimani disfatto, vincendo resti loro prigione. E ancora che di questi esempi ne siano piene le antiche storie, non di meno io non mi voglio partire da questo esempio di Papa Julio II, quale è ancora fresco, il partito del quale non potè essere manco considerato, per volere Ferrara, mettendosi tutto nelle mani d'uno forestiere. Ma la sua buona fortuna fece nascere una terza causa, a ciò non cogliesse il frutto della sua male elezione, perché, essendo gli ausiliari suoi rotti a Ravenna, e sorgendo gli svizzeri che cacciarono i vincitori fuori ad ogni opinione, e sua, ed altri, venne a non rimanere prigione degli inimici, essendo fugati, né degli ausiliari suoi, avendo vinto con altre armi, che con le loro. I Fiorentini, essendo al tutto disarmati, condussero diecimila francesi a Pisa, per espugnarla, per il quale partito portarono più pericolo, che in qualunque tempo di travagli loro. L'imperatore di Costantinopoli, per opporsi agli suoi vicini, mise in Grecia diecimila turchi, li quali, finita la guerra, non se ne volsero partire. Il che fu principio della servitù della Grecia con gli infedeli. Colui adunque che vuole non poter vincere, si vaglia di queste armi, perché sono molto più pericolose che le mercenarie. Perché in queste è la rovina fatta, sono tutte unite tutte volte all'obbedienza di altri. Ma nelle mercenarie ad offenderti, vinto che le hanno, bisogna più tempo e maggiore occasione, non essendo tutte un corpo, ed essendo trovate e pagate da te, nelle quali un terzo che tu faccia capo non può pigliare subito tanta autorità che ti offenda. Insomma nelle mercenarie è più pericolosa la ignavia, nelle ausiliari la virtù. Un Principe, pertanto savio, sempre ha fuggito queste armi, e voltosi alle proprie, e voluto piuttosto perdere con le sue, che vincere con l'altrui, giudicando a non vera vittoria quelle che con l'armi d'altri si acquistasse. Io non dubiterò mai di allegare Cesare Borgia e le sue azioni. Questo duca entrò in Romagna con le armi ausiliarie, conducendovi tutte genti francesi, e con quelle prese Imola e Furlì. Ma non li parendo poi tale armi sicure, si volse alle mercenarie, giudicando in quelle manco pericolo, e soldò gli orsini e vitelli, le quali poi, nel maneggiare trovando dubbie, infedeli e pericolose, le spense, e volsesi alle proprie. E possi facilmente vedere che differenza sia tra l'una e l'altra di queste armi, considerato che differenza fu dalla reputazione del duca, quando aveva gli orsini e vitelli, e quando rimase con gli soldati suoi, e sopra di se stesso, e si troverà sempre accresciuta. Né mai fu stimato assai, se non quando ciascuno vide, che egli era intero possessore delle sue armi. Io non mi volevo partire dagli esempi italiani e freschi. Pure non voglio lasciare indietro Ierone Siracusano, essendo uno de' soprannominati da me. Costui, come di già dissi, fatto dagli Siracusani capo degli eserciti, cognobbe subito quella minizia mercenaria a non essere utile, per essere conduttori fatti come li nostri italiani, e parendogli non li poter tenere né lasciare, gli fece tutti tagliare a pezzi. Di poi fece guerra con l'armi sue, e non con le altrui. Voglio ancora ridurre a memoria una figura del Testamento vecchio, fatta a questo proposito. Offerendosi Davide a Saul, di andare a combattere con Golia, provocatore Filisteo, Saul, per dargli animo, larmò dell'armi sue, le quali, come Davidebbe indosso, ricusò, dicendo con quelli non si potere ben valere di se stesso. E però voleva trovare il nemico con la sua fromba, e con il suo coltello. Insomma, larmi d'altri, o le ti cascono di dosso, o e le ti pesano, e le ti stringono. Carlo VII, padre del re Luigi XI, avendo con la sua fortuna e virtù libera la Francia dagli inglesi, coniobbe questa necessità di armarsi d'arme proprie, e ordinò nel suo regno l'ordinanza delle gentili arme e delle fanterie. Di poi il re Luigi suo figliolo spense quello dei fanti, e cominciò a soldare Svizzeri. Il quale errore seguitato dagli altri, è, come si vede ora infatto, cagione dei pericoli di quel regno. Perché, avendo dato reputazione a Svizzeri, ha invilito tutte l'armi sue, perché le fanterie ha spento in tutto, e le sue gente d'arme ha obbligate all'arme d'altri, perché essendo a suoi fatti a militare con Svizzeri, non pare loro di poter vincere senza essi. Di qui nasce che gli Francesi contra Svizzeri non bastano, e senza i Svizzeri contra d'altri non provano. Sono adunque stati gli eserciti di Francia misti, parte mercenari e parte propri, le quali armi, e tutte insieme, sono molto migliori, che le semplici mercenari, o le semplici ausiliari, e molto inferiori alle proprie. E basti l'esempio detto, perché il regno di Francia sarebbe insuperabile, se l'ordine di Carlo era cresciuto o preservato. Ma la poca prudenza degli uomini comincia una cosa, che per sapere allora di buono non manifesta il veleno che ve sotto, come io dissi di sopra delle febbri etiche. Pertanto, se colui che è in un Principato, non conosce i mali se non quando che nascono, non è veramente Savio. E questo è dato a pochi. E se si considerasse la prima rovina dell'Imperio Romano, si troverà essere stato solo il cominciare a soldare i Goti, perché da quel principio cominciarono a innervare le forze dell'Imperio Romano, e tutta quella virtù che si levava da lui, si dava a loro. Conchiudo adunque, che senza avere arme proprie, nessuno Principato è sicuro. Anzi, tutto obbligato la fortuna, non avendo virtù che nell'avversità lo difenda. E fu sempre opinione e sentenza degli uomini savi, che niente sia così infermo ed instabile, come è la fama della potenza non fondata nelle forze proprie. E l'arme proprie sono quelle che sono composte di sudditi o di cittadini, o di creati tuoi. Tutte l'altre sono mercenari o ausiliari. E il modo ad ordinare l'arme proprie sarà facile a trovare, se si discorreranno gli ordini soprannominati da me, e se si vedrà, come Filippo, padre di Alessandro Magno, e come molte Repubbliche e Principi, si sono armati ed ordinati. A quali ordini io mi rimetto al tutto. Fine del Capitolo tredici Capitoli da quattordici a sedici de Il Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo quattordici Quello che al Principe si appartenga circa la Milizia Deva dunque un Principe non avere altro oggetto, né altro pensiero, né prendere cosa alcuna per sua arte, fuori della guerra, ed ordini e disciplina di essa. Perché quella è sola arte che si aspetta a chi comanda. Ed è di tanta virtù, che non solo mantiene quelli che sono nati Principi, ma molte volte fa gli uomini di privata fortuna salire a quel grado. E per contrario si vede, che quando i Principi hanno pensato più alle delicatezze che all'arme, hanno perso lo stato loro. E la prima cagione che ti fa perdere quello, è il disprezzare questa arte. E la cagione che te lo fa acquistare, è l'essere professo di questa arte. Francesco Sforza, per essere armato, diventò di privato duca di Milano, e li figliuoli per fuggire le fatiche e i disagi dell'arme, di duchi diventarono privati. Perché tra le altre cagioni di male, che ti arreca l'essere disarmato, ti fa disprezzare. La quale è una di quelle infamie, dalle quali il Principe si debbe guardare, come di sotto si dirà. Perché da uno armato a uno disarmato, non è proporzione alcuna, e la ragione non vuole che chi è armato, ubbidisca volentieri a chi è disarmato, e che il disarmato stia sicuro tra i servitori armati. Perché essendo dell'uno sdegno, e dell'altro sospetto, non è possibile operino bene insieme. E però un Principe, che della Milizia non si intende, oltre all'altra infelicità, come detto, non può essere stimato da suoi soldati, né fidarsi di loro. Non dembe pertanto mai levare il pensiero da questo esercizio della guerra, e nella pace vi si deve più esercitare che nella guerra. Il che può fare in due modi, l'uno con l'opere, l'altro con la mente. E quanto all'opere, deve, oltre al tener bene ordinati ed esercitati li suoi, star sempre in sulle cacce, e mediante quelle assuefare il corpo ai disagi, e parte imparare la natura dei siti, e conoscere come sorgono i monti, come imboccano le valli, come giacciono i piani, ed intendere la natura dei fiumi e delle paludi, ed in questo porre grandissima cura. La qual cognizione è utile in due modi. Prima si impara a conoscere il suo Paese, e può meglio intendere le difese di esso. Di poi, mediante la cognizione e pratica di quelli siti, con facilità comprende un altro sito, che di nuovo gli sia necessario speculare. Perché ripoggi, le valli, e piani, e fiumi, e paludi che sono Berbigrazia in Toscana, hanno con quelle dell'altra provincia certa similitudine, tale che dalla cognizione del sito di una provincia, si può facilmente venire alla cognizione dell'altra. E quel Principe che manca di questa perizia, manca della prima parte che vuole avere un Capitano, perché questo insegna trovare il nemico, pigliare gli alloggiamenti, condurre gli eserciti, ordinare le giornate, campeggiare le terre con il suo vantaggio. Philopemene, Principe degli Achei, tra le altre laudi che dagli scrittori gli son date, è che nei tempi della pace non pensava mai se no a modi della guerra, e quando era in campagna con gli amici, spesso si fermava e ragionava con quelli. Se gli nemici fussero in su quel colle, e noi ci trovassimo qui col nostro esercito, chi di noi avrebbe vantaggio? Come sicuramente si potrebbe ir a trovargli servando gli ordini? Se noi volessimo ritirarci, come aremmo a fare? Se loro si ritirassero, come aremmo a seguirli? E proponeva loro, andando, tutti i casi che in un esercito possono occorrere. Intendeva l'opinior loro, diceva la sua, corroboravala con le ragioni. Tal che per queste continue cogitazioni non poteva mai, guidando gli eserciti, nascere accidente alcuno, che egli non vi avesse il rimedio. Ma quanto all'esercizio della mente, deve il Principe leggere le storie, e in quelle considerare le azioni degli uomini eccellenti, vedere come si sono governati nelle guerre, esaminare le cagioni delle vittorie, e perdite loro, per potere queste fuggire, quelle imitare. E sopra tutto fare come ha fatto per addietro qualche uomo eccellente, che ha preso ad imitare, se alcuno è stato innanzi a lui lodato e glorioso, e di quello che ha tenuto sempre i gesti d'azione appresso di sé, come si dice che Alessandro Magno imitava Achille, Cesare Alessandro, Scipione Ciro. E qualunque legge la vita di Ciro scritta da Senofonte, riconosce di poi nella vita di Scipione quanto quella imitazione gli fu di gloria, e quanto nella castità, fabilità, umanità e liberalità Scipione si conformasse con quelle cose che di Ciro sono da Senofonte scritte. Questi simili modi deve osservare un principe sabio, né mai né tempi pacifici stare ozioso, ma con industria farne capitale, per potersene valere nell'avversità, a ciò che, quando si muta la fortuna, lo trovi parato a resistere agli suoi colpi. Fine del Capitolo Quattordici Capitolo Quindici Delle cose, mediante le quali gli uomini, e massimamente i Principi, sono lodati o vituperati. Resta ora a vedere quali debbono essere i modi e i governi di un Principe con gli sudditi e con gli amici. E perché io so che molti di questo hanno scritto, dubito, scrivendone ancor io, non esser tenuto presuntuoso, partendomi massimo nel disputare questa materia dagli ordini degli altri. Ma essendo l'intento mio a scrivere cosa utile a chi l'intende, mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa, che la immaginazione di essa. E molti si sono immaginate Repubbliche e Principati, che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero. Perché egli è tanto discosto da come si vive, a come si doveria vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si doveria fare, impara piuttosto la rovina che la preservazione sua. Perché un uomo che voglia fare in tutte le parti professioni di buono, conviene che rovini fra tanti che non sono buoni. Onda è necessario ad un Principe, volendosi mantenere, imparare a poter essere non buono, ed usarlo e non usarlo, secondo la necessità. Lasciando adunque indietro le cose circomprincipe immaginate, e discorrendo quelle che sono vere, dico che tutti gli uomini, quando se ne parla, e massimo i Principi, per essere posti più alto, sono notati di alcuna di queste qualità, che arrecano loro o biasimo o laude. E questo è che alcuno è tenuto liberale, alcuno misero, usando un termine toscano, perché avare in nostra lingua, è ancor colui che per rapina desidera d'avere, e misero chiamiamo quello che troppo si astiene dall'usare il suo. Alcuno è tenuto donatore, alcuno rapace, alcuno crudele, alcuno pietoso, l'uno fedifrago, l'altro fedele, l'uno effeminato e pusillanime, l'altro feroce ed animoso, l'uno umano, l'altro superbo, l'uno lascivo, l'altro casto, l'uno intero, l'altro astuto, l'uno duro, l'altro facile, l'uno grave, l'altro leggere, l'uno religioso, l'altro incredulo, e simili. Io so che ciascuno confesserà che sarebbe laudabilissima cosa un Principe trovarsi di tutte le sopradette qualità quelle che sono tenute buone. Ma perché non si possono avere, né interamente osservare, per le condizioni umane che non lo consentono, gli è necessario essere tanto prudente, che sappia fuggire l'infame di quelli vizi che li torrebbono lo Stato, e da quelli che non gliene tolgano guardarsi, se egli è possibile. Ma non potendosi, si può con minor rispetto lasciare andare, ed ancora non si curi di incorrere nell'infame di quelli vizi, senza i quali posso difficilmente salvare lo Stato. Perché se si considera bene tutto, si troverà qualche cosa che parrà virtù, e seguendola sarebbe la rovina Sua, e qualcun'altra che parrà vizio, e seguendola ne risulta la sicurtà e il benessere Suo. Fine del Capitolo Quindici Capitolo sedici Della liberalità e miseria Cominciando adunque dalle prime soprascritte qualità, dico come sarebbe bene esser tenuto liberale. Non di manco la liberalità usata in modo che tu non siete muto, ti offende, perché se la si usa virtuosamente, e come la si deve usare, la non fia conosciuta, e non ti cadrà l'infamia del suo contrario. E però a volersi mantenere tra gli uomini il nome del liberale, è necessario non lasciare indietro alcuna qualità di sontuosità, talmente che sempre un Principe così fatto, consumirà in simili opere tutte le sue facultà, e sarà necessitato alla fine, se egli si vorrà mantenere in nome del liberale, gravare i popoli straordinariamente, ed essere fiscale, e fare tutte quelle cose che si possono fare per avere danari. Il che comincerà a farlo odioso con gli sudditi, e poco stimare da ciascuno, diventando povero, in modo che, avendo con questa sua liberalità offeso molti, e premiato pochi, sente ogni primo disagio, e periclita in qualunque primo pericolo, il che, conoscendo lui, e volendosene ritrarre, incorre subito nell'infamia del misero. Un Principe, dunque, non potendo usare questa virtù del liberale, senza suo danno, in modo che la sia conosciuta, deve, se egli è prudente, non si curare del nome del misero, perché con il tempo sarà tenuto sempre più liberale. Veggendo che con la sua parsimonia le sue entrate gli bastano, può difendersi da chi gli fa guerra, può fare imprese senza aggravare i popoli, talmente che viene ad usare la liberalità a tutti quelli a chi non toglie, che sono infiniti, e miseria a tutti coloro a chi non dà, che sono pochi. Nei nostri tempi noi non abbiamo veduto fare gran cose, se non a quelli che sono stati tenuti miseri, gli altri essere spenti. Papa Giulio II, come si fu servito del nome di liberale per aggiungere al papato, non pensò più a mantenerselo, per potere fare guerra al Re di Francia. E ha fatto tante guerre senza porre un dazio strasordinario, perché alle superfle spese ha somministrato la lunga sua parsimonia. Il Re di Spagna presente, se fosse tenuto liberale, non avrebbe fatto né vinto tante imprese. Pertanto un Principe deve stimare poco, per non avere a rubare i sudditi, per poter difendersi, per non diventare povero ed abbietto, per non essere forzato a diventare rapace ed incorrere nel nome di misero, perché questo è uno di quelli vizi, che lo fanno regnare. E se alcun dicesse, Cesare con la liberalità pervenne all'imperio, e molti altri per essere stati ed essere tenuti liberali sono venuti a gradi grandissimi, rispondo, o tu sei Principe fatto, o tu sei in via di acquistarlo. Nel primo caso questa liberalità è dannosa. Nel secondo è ben necessario esser tenuto liberale, e Cesare era un di quelli che voleva pervenire al Principato di Roma. Ma se poiché vi fu venuto, fosse sopravvissuto, e non si fosse temperato da quelle spese, avrebbe distrutto quell'imperio. E se alcuno replicasse, molti sono stati Principi, e con gli eserciti hanno fatto gran cose, che sono stati tenuti liberalissimi, ti rispondo, o il Principe spende del suo e dei suoi sudditi, o di quello d'altri. Nel primo caso deve esser parco, nel secondo non deve lasciare indietro parte alcuna di liberalità. E quel Principe che va con gli eserciti, che si pasce di prede, di sacchi, e di taglie, e maneggia quel d'altri, gli è necessaria questa liberalità, altrimenti non sarebbe seguito da soldati. E di quello che non è tuo o dei tuoi sudditi, si può essere più largo donatore, come fu Ciro, Cesare e Alessandro. Perché lo spendere quel d'altri non toglie riputazione, ma te ne aggiugne. Solamente lo spendere il tuo è quello che ti nuoce. E non c'è cosa che consumi se stessa quanto la liberalità, la quale, mentre che tu usi, perdi la facoltà di usarla, e diventi o povero o vile, o per fuggire la povertà, rapace e odioso. E tra tutte le cose da che un Principe si debbe guardare, è l'essere disprezzato e odioso, e la liberalità, all'una e l'altra di queste cose, ti conduce. Pertanto è più sapienza tenersi il nome di misero, che partorisce una infamia senza odio, che per volere il nome di liberale, incorre per necessità nel nome di rapace, che partorisce una infamia con odio. Fine del Capitolo sedici Capitoli da diciassette a diciotto De Il Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo diciassette Nella crudeltà è clemenzia, e se egli è meglio essere amato, che temuto. Discendendo appresso alle altre qualità preallegate, dico che ciascuno Principe, deve desiderare di essere tenuto pietoso, e non crudele. Non di manco deve avvertire di non usar male questa pietà. Era tenuto Cesare Borgia crudele. Non di manco quella sua crudeltà aveva racconcia la Romagna, unitala, e ridottala in pace e in fede. Il che, se si considera bene, si vedrà quello essere stato molto più pietoso che il popolo fiorentino, il quale, per fuggire il nome di crudele, lasciò distruggere Pistoia. Deve pertanto un Principe non si curare dell'infame e di crudele, per tenere i sudditi suoi uniti e in fede. Perché con pochissimi esempi sarai più pietoso che quelli, li quali, per troppa pietà, lasciano seguire i disordini, onde naschino uccisioni o rapine. Perché queste sogliano offendere una università intera, e quelle esecuzioni che vengono dal Principe, offendono un particolare. E tra tutti i Principi, al Principe nuovo è impossibile fuggire il nome di crudele, per essere gli stati nuovi pieni di pericoli. Onde Virgilio, per la bocca di Didone, descusa l'inumanità del suo regno, per essere quello nuovo, dicendo, res dura et regni novitas metaglia cogunt, moliri et late fines custode tueri. Non di meno deve esser grave a credere ed al muoversi, né si deve far paura da se stesso, e procedere in modo temperato, con prudenza, ed umanità, che la troppa confidenza non lo faccia incauto, e la troppa diffidenza non lo renda intollerabile. Nasce da questo una disputa. Se egli è meglio essere amato che temuto, o temuto che amato. Rispondesi che si vorrebbe essere l'uno e l'altro. Ma perché egli è difficile che stiano insieme, è molto più sicuro l'esser temuto che amato, quando sabbia mancare dell'uno dei duoi? Perché degli uomini si può dire questo generalmente, che siano ingrati, volubili, simulatori, fuggitori dei pericoli, cupidi di guadagno. E mentre fai il loro bene, sono tutti i tuoi, ti offeriscono il sangue, la roba, la vita e i figliuoli, come li sopradissi, quando il bisogno è discosto. Ma quando ti si appressa, si rivoltano, e quel Principe che si è tutto fondato in sulle parole loro, trovandosi nudo di altri preparamenti, rovina. Perché le amicizie che si acquistano con il prezzo, e non con grandezza e nobiltà d'animo, si meritano, ma le non si hanno, e a tempi non si possono spendere. E gli uomini hanno meno rispetto di offendere uno che si faccia amare, che uno che si facci temere. Perché l'amore è tenuto da un vincolo di obbligo, il quale, per essere gli uomini tristi, da ogni occasione di propria utilità è rotto. Ma il timore è tenuto da una paura di pena, che non abbandona mai. Deve non di meno il Principe farsi temere, in modo che se non acquista l'amore, e fugga l'odio, perché può molto bene stare insieme, essere temuto, e non odiato. Il che farà, sempre che si astenga dalla roba dei suoi cittadini, e dei suoi sudditi, e dalle donne loro. E quando pure gli bisognasse procedere contro al sangue di qualcuno, farlo quando vi sia giustificazione conveniente, e causa manifesta, ma soprattutto astenersi dalla roba d'altri, perché gli uomini dimenticano piuttosto la morte del padre, che la perdita del patrimonio. Di poi le cagioni del torre la roba non mancano mai, e sempre colui che comincia a vivere con rapina, trova cagioni d'occupare quel d'altri, e per avverso contro al sangue sono più rare e mancano piuttosto. Ma quando il Principe è con gli eserciti, e ha in governo moltitudine di soldati, allora è al tutto necessario non si curare del nome di crudele, perché senza questo nome non si tiene un esercito unito, né disposto ad alcuna fazione. Tra le mirabili azioni di Annibale si connumera questa, che avendo un esercito grossissimo, misto di infinite generazioni d'uomini, condotto a militare in terre d'altri, non vi surgesse mai una dissensione né fra loro né contro il Principe, così nella trista come nella sua buona fortuna. Il che non poté nascere da altro, che da quella sua inumana crudeltà, la quale, insieme con infinite sue virtù, lo fece sempre nel cospetto dei suoi soldati venerando e terribile. E senza quella, l'altre sue virtù a far quell'effetto non gli bastavano. E gli scrittori poco considerati dall'una parte, ammirano queste sue azioni, e dall'altra dannono la principale cagione di esse. E che sia il vero, che l'altre sue virtù non gli sarieno bastate, si può considerare in Scipione, rarissimo non solamente nei tempi suoi, ma in tutta la memoria delle cose che si sanno, dal quale gli eserciti suoi in Spagna si ribellarono. Il che non nacque d'altro, che dalla sua troppe pietà, la quale aveva data ai suoi soldati più licenza, che alla disciplina militare non si conveniva. La qualcosa gli fu da Fabio Massimo nel senato rimproverata, chiamandolo corruttore della romana milizia. I locrensi, essendo stati da un legato di Scipione distrutti, non furono da lui vindicati, né l'insolenza di quel legato corretta, nascendo tutto da quella sua natura facile. Talmente che, volendolo alcuno in senato scusare, disse come egli erano molti uomini, che sapevano meglio non errare, che correggere gli errori d'altri. La qual natura avrebbe con il tempo violato la fama e la gloria di Scipione, se egli avesse con essa perseverato nell'imperio. Ma vivendo sotto il governo del senato, questa sua qualità dannosa non solamente si nascose, ma gli fu a gloria. Conchiuda dunque, tornando all'essere temuto ed amato, che amando gli uomini apposta loro, e temendo apposta del Principe, deve un Principe Savio fondarsi in su quello che è suo, non in su quello che è d'altri. E deve solamente ingegnarsi di fuggir l'odio, come detto. Fine del Capitolo diciassette Capitolo diciotto In che modi i Principi debbino osservare la fede Quanto sia laudabile in un Principe mantenere la fede, e vivere con integrità, e non con astuzia, ciascuno lo intende. Non di meno si vede per esperienza nei nostri tempi, quelli Principi aver fatto gran cose, che della fede hanno tenuto poco conto, e che hanno saputo con astuzia aggirare i cervelli degli uomini, ed alla fine hanno superato quelli che si sono fondati in sulla lealtà. Dovete dunque sapere, come sono due generazioni di combattere, l'una con le leggi, l'altra con le forze. Quel primo modo è degli uomini, quel secondo è delle bestie. Ma perché il primo spesse volte non basta, bisogna ricorrere al secondo. Pertanto ad un Principe è necessario saper ben usare la bestia e l'uomo. Questa parte è stata insegnata a Principi copertamente dagli antichi scrittori, i quali scrivono come Achille e molti altri di quelli Principi antichi furono date nutrire a Chirone Centauro, che sotto la sua disciplina gli custodisse. Il che non vuol dire altro, l'aver per precettore un mezzo bestia e mezzo uomo, se non che bisogna ad un Principe saper usare l'una e l'altra natura, e l'una senza l'altra non è durabile. Essendo adunque un Principe necessitato saper ben usare la bestia, debbe di quella pigliare la volpe e l'ione. Perché l'ione non si difende da lacci, la volpe non si difende da lupi. Bisogna adunque essere volpe a cognoscere i lacci, e l'ione a sbigottire i lupi. Coloro che stanno semplicemente in sull'ione, non se ne intendono. Non può pertanto un Signore prudente, né debbe osservare la fede, quando tale osservanza gli torni contro, e che sono spente le cagioni che la feciono promettere. E se gli uomini fussero tutti buoni, questo precetto non sarebbe buono, ma perché sono tristi, e non lo osserverebbero a te, tu ancora non l'hai da osservare a loro, né mai ad un Principe mancheranno cagioni legittime di colorare l'inosservanza. Di questo se ne potriano dare infiniti esempi moderni, e mostrare quante paci, quante promesse siano state fatte rite e vane per l'infedeltà dei Principi, e a quello che ha saputo meglio usare la volpe, meglio ha successo. Ma è necessario a questa natura saperla ben colorire, ed essere gran Simulatore e dissimulatore, e sono tanto semplici gli uomini, e tanto ubbidiscono alle necessità presenti, che colui che inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare. Io non voglio degli esempi freschi tacerne uno. Alessandro VI non fece mai altro che ingannare uomini, né mai pensò ad altro, e trovò soggetto di poterlo fare, e non fu mai uomo che avesse maggiori efficaci in asseverare, e che con maggiori giuramenti affermasse una cosa, e che lo osservasse meno. Non di manco gli succederono sempre gli inganni, perché conosceva bene questa parte del mondo. Ad un Principe adunque non è necessario avere tutte le soprascritte qualità, ma è ben necessario parere d'averle. Anzi, ardirò di dire questo, che avendole, ed osservandole sempre, sono dannose, e parendo di averle, sono utili, come parere pietoso, fedele, umano, religioso, intero, ed essere. Ma stare in modo edificato con l'animo, che bisognando tu possa, e sappi mutare contrario. E assi ad intendere questo, che in un Principe, e massimo un Principe nuovo, non può osservare tutte quelle cose, per le quali gli uomini sono tenuti buoni, essendo spesso necessitato, per mantenere lo Stato, operare contro l'umanità, contro la carità, contro la religione. E però bisogna che egli abbia un'animo disposto a borgersi secondo che i venti e le variazioni della fortuna gli comandano, e come di sopra dissi, non partirsi dal bene, potendo, ma sapere entrare nel male, necessitato. Deve adunque avere un Principe gran cura, che non gli esca mai di bocca una cosa che non sia piena delle soprascritte cinque qualità, e paia vederle o dirlo tutto pietà, tutto integrità, tutto umanità, tutto religione. E non è cosa più necessaria, a parere d'avere, che quest'ultima qualità, perché gli uomini in Universale giudicano più agli occhi che alle mani, perché tocca a vedere a ciascuno, a sentire a pochi. Ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei, e quelli pochi non arriscono a porsi all'opinione de' molti, che abbino la maestra dello Stato che li difendi, e nelle azioni di tutti gli uomini, e massime de' Principi, dove non è giudizio a chi li reclamare, si guarda al fine. Faccia dunque un Principe conto di vivere, e di mantenere lo Stato. I mezzi saranno sempre giudicati onorevoli, e da ciascuno lo dati, perché il vulgo ne va sempre preso con quello che pare, e con l'evento della cosa, e nel mondo non è se non vulgo, e i pochi hanno luogo, quando gli assai non hanno dove appoggiarsi. Alcuno Principe di questi tempi, il quale non è bene nominare, non predica mai altro che pace e fede, e l'una e l'altra, quando l'avesse osservata, gli arebbe più volte tolto lo Stato, e la reputazione. Fine del Capitolo diciotto Capitolo diciannove de' Il Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo diciannove Che si debbe fuggire l'essere disprezzato e odiato. Ma perché circa le qualità, di che di sopra si fa menzione, io ho parlato delle più importanti, l'altre voglio discorrere brevemente sotto queste generalità. Che il Principe pensi, come di sopra in parte è detto, di fuggire quelle cose che lo faccino odioso o vile. E qualunque volta fuggirà questo, harà d'impiuto le parti sue, e non troverà nell'altre infamie pericolo alcuno. Odioso lo fa soprattutto, come io dissi, lo essere rapace ed usurpatore della roba e delle donne e dei sudditi, di che si deve astenere. Qualunque volta alla università degli uomini non si toglie né roba né onore, vivono contenti, e solo sa combattere con l'ambizione di pochi, la quale in molti modi e con facilità si raffrena. Abietto lo fa l'essere tenuto vario, leggero e effeminato, pusill'animo irresoluto. Di che un Principe si deve guardare come da uno scoglio, e ingegnarsi che nelle azioni sue si riconosca grandezza, animosità, gravità, fortezza. E circa maneggi privati dei sudditi, volere che la sua sentenzia sia irrevocabile, e si mantenga in tale opinione che alcuno non pensi né ad ingannarlo né ad aggirarlo. Quel Principe che dà di sé quest'opinione, è riputato assai, e contro a chi è riputato assai con difficoltà si congiura, e con difficoltà è assaltato, purché si intenda che sia eccellente e riverito da suoi. Perché un Principe deve avere due paure, una dentro per conto dei sudditi, l'altra di fuori per conto dei potenti esterni. Da questo si difende con le buone armi e buoni amici, e sempre se harà buone arme, avrà buoni amici. E sempre staranno ferme le cose di dentro, quando stiano ferme quelle di fuori, se già le non fossero perturbate da una congiura. E quando pure quelle di fuori muovessero, se egli ha ordinato, e vissuto come io ho detto, sempre, quando non si abbandoni, sosterrà ogni impeto, come dissi che fece Nabide Spartano. Ma circa i sudditi, quando le cose di fuori non muovino, sa da temere che non congiurino segretamente, del che il Principe si assicura assai, fuggendo l'essere odiato e disprezzato, e tenendosi il popolo satisfatto di lui. Il che è necessario conseguire, come di sopra si disse a lungo. Ed uno dei più potenti rimedi che abbia un Principe contro le congiure, è non essere odiato o disprezzato dall'universale. Perché sempre chi congiura, crede con la morte del Principe, satisfare al popolo. Ma quando ei crede offenderlo, non piglia animo a prender simil partito. Perché le difficoltà che sono dalla parte dei congiuranti, sono infinite. Per esperienza si vede molte essere state le congiure, e poche aver avuto buon fine. Perché chi congiura, non può esser solo, né può prendere compagnia, se non di quelli che crede essere malcontenti. E subito che a un malcontento tu hai scoperto l'animo tuo, gli dè materia a contentarsi, perché manifestandolo, lui ne può sperare ogni comodità. Talmente che, veggendo il guadagno fermo da questa parte, e dall'altra veggendolo dubbio, è pieno di pericolo, convien bene o che sia raro amico, o che sia al tutto ostinato nemico del Principe ad osservarti la fede. E per ridurre la cosa in brevi termini, dico che dalla parte del congiurante non è, se non paura, gelosia, sospetto di pena, che lo sbigottisce. Ma dalla parte del Principe è la maestà del Principato, le leggi, le difese degli amici e dello Stato, che lo difendono. Talmente che, aggiunta a tutte queste cose la benevolenza popolare, è impossibile che alcun sia sì temerario che congiuri. Perché per l'ordinario dove un congiurante ha da temere innanzi l'esecuzione del male, in questo caso debbe temere ancora da poi, avendo per nemico il popolo, seguito l'eccesso, né potendo per questo sperare rifugio alcuno. Di questa materia se ne potrei dare infiniti esempi, ma voglio solo esser contento d'uno, seguito alla memoria de' padri nostri. Messer Annibale Bentivogli, avolo del presente Messer Annibale, che era Principe in Bologna, essendo da canneschi, che li congiurarono contro ammazzato, né rimanendo di lui altri che Messer Giovanni, quale era in fasce, subito dopo tale omicidio, si levò il popolo, ed ammazzò tutti canneschi. Il che nacque dalla benevolenza popolare che la casa de' Bentivogli aveva in quei tempi in Bologna, la qual fu tanta, che non vi restando alcuno che potesse, morto Annibale, reggere lo Stato, ed avendo indizio come in Firenze era nato de' Bentivogli, che si teneva fino allora figliuolo di un fabbro, vennero i bolognesi per quello in Firenze, e li dettono il governo di quella città, la quale fu governata da lui, fino a tanto che Messer Giovanni pervenne in età conveniente al governo. Conchiudo adunque, che un Principe deve tenere delle congiure poco conto, quando il popolo gli sia benevolo, ma quando gli sia inimico, ed abilo in odio, deve temere di ogni cosa e di ognuno. E gli Stati bene ordinati, ed i Principi savi, hanno con ogni diligenza pensato di non far cadere in disperazioni grandi, e di satisfare al popolo, e tenerlo contento, perché questa è una delle più importanti materie che abbia un Principe. Tra i Regni ben ordinati e governati a nostri tempi, è quello di Francia, ed in esso si trovano infinite Costituzioni buone, donde ne dipende la libertà e sicurtà del Re, delle quali la prima è il Parlamento, e la sua autorità. Perché quello che ordinò quel Regno, conoscendo l'ambizione dei potenti e la insolenza loro, e giudicando essere necessario loro un freno in bocca, che gli correggesse, e dall'altra parte, conoscendo l'odio dell'universale e conti grandi, fondati sulla paura, e volendo assicurarli, non volse che questa fusse particolar cura del Re, per torgli quel carico, che potesse avere con i grandi, paurendi popolari, e con i popolari, favorendi i grandi, e però, costituì un giudice terzo, che fosse quello che senza carico del Re, battesse i grandi, e favorisse i minori. Né poté essere questo ordine migliore, né più prudente, né maggior cagione di sicurtà del Re e del Regno, di che si può trarre un altro notabile, che li Principi debbono le cose di carico fare somministrare ad altri, e quelle di grazie a lor medesimi. Di nuovo, conchiudo, che un Principe debbe stimare i grandi, ma non si far odiare dal popolo. Parebbe forse a molti, che considerata la vita e morte di molti Imperatori Romani, fussi un esempio contrario a questa mia opinione, trovando alcuno esser vissuto sempre egregiamente, e mostro gran virtù d'animo, nondimeno aver perso l'Imperio, ovvero essere stato morto dai suoi, che li hanno congiurato contro. Volendo adunque rispondere a queste obiezioni, discorrerò le qualità di alcuni Imperatori, mostrando la cagione della loro rovina, non disforme da quello che da me sia dutto, e parte metterò in considerazione quelle cose, che sono notabili a chi legge le azioni di quelli tempi. E voglio mi basti pigliare tutti quelli Imperatori, che succederono nell'Imperio, da Marco Filosofo a Massimino, li quali furono Marco, Comodo suo figliolo, Pertinace, Inliano, Severo, Antonino, Caracalla suo figliolo, Macrino, Eliogabalo, Alessandro e Massimino. Ed è prima da notare, che dove negli altri Principi sia solo a contendere con l'ambizione dei grandi, e l'insolenza dei popoli, gli Imperatori Romani avevano una terza difficoltà. Dav'era sopportare la crudeltà ed avarizia dei soldati. La qualcosa era sì difficile, che la fu cagione della rovina di molti, sendo difficile soddisfare a soldati e ai popoli. Perché i popoli amano la quiete, e per questo amano i Principi modesti, ed i soldati amano il Principe d'animo militare, e che sia insolente, e crudele, e rapace. Le quali cose volevano che egli esercitassene i popoli, per potere avere duplicato stipendio, e sfogare la loro avarizia e crudeltà. D'onde ne nacque, che quegli Imperatori, che per natura o per arte non avevano reputazione tale, che con quella tenessero l'uno e l'altro in freno, sempre rovinavano. E li più di loro, massimi quelli che come uomini nuovi venivano al Principato, conosciuta la difficoltà di questi due diversi umori, si volgevano a satisfare a soldati, stimando poco l'ingiuriare il popolo. Il quale partito era necessario, perché non potendo i Principi mancare di non essere odiati da qualcuno, si debbono prima sforzare di non essere odiati dall'università. E quando non possono conseguire questo, si debbono ingegnare con ogni industria, fuggire l'odio di quelle università che sono più potenti. E però quegli Imperatori, che per novità avevano bisogno di favori straordinari, aderivano ai soldati più volentieri che agli popoli, il che tornava loro non di meno più utile o no, secondo che quel Principe si sapeva mantenere riputato con loro. Da queste cagioni sopradette nacque che Marco, Pertinace ed Alessandro, essendo tutti di modesta vita, amatori della giustizia, inimici della crudeltà, umani e benigni, ebbero tutti, da Marco in fuora, tristo fine. Marco solo visse, e morì onoratissimo, perché lui succede all'imperio a periodità, e non aveva a riconoscere quello né dai soldati né dai popoli. Dipoi, essendo accompagnato da molte virtù che lo facevano venerando, tenne sempre mentre visse l'uno l'ordine e l'altro dentro ai suoi termini, e non fu mai né odiato né disprezzato. Ma Pertinace fu creato imperatore contro la voglia dei soldati, gli quali, essendo usi a vivere licenziosamente sotto comodo, non poterono sopportare quella vita onesta alla quale Pertinace li voleva ridurre. Onde, avendosi creato odio, e a questo odio aggiunto dispregio per l'esser vecchio, rovinò nei primi principi della sua amministrazione. Onde si deve notare che l'odi s'acquista così mediante le buone opere come le triste. E però, come io dissi di sopra, volendo un Principe mantenere lo Stato, è spesso forzata a non esser buono, perché quando quelle università, o popolo, o soldati, o grandi che siano, della quale tu giudichi per mantenerti aver bisogno e corrotta, ti convien seguire l'umor suo, e soddisfarle. E allora le buone opere ti sono inimiche. Ma veniamo ad Alessandro, il quale fu di tanta bontà, che tra l'altre dodi che gli sono attribuite, e che in quattordici anni che tenne l'imperio, non fu mai morto da lui nessun ingiudicato. Non di manco, essendo tenuto effeminato, e uomo che si lasciasse governare dalla madre, e per questo venuto in spregio, conspirò contro di lui l'esercito, ed ammazzollo. Discorrendo ora per opposito alle qualità di Comodo, di Severo, di Antonino, di Caracale, di Massimino, gli troverete crudelissimi e rapacissimi, li quali, per satisfare ai soldati, non perdonarono nessuna qualità di ingiuria, che nei popoli si potesse commettere. E tutti, eccetto Severo, ebbero tristo fine, perché in Severo fu tanta virtù, che mantenendosi i soldati amici, ancorché i popoli fossero da lui gravati, pote sempre regnare felicemente, perché quelle sue virtù lo facevano nel cospetto dei soldati e dei popoli, sì mirabile, che questi rimanevano in un certo modo attoniti e stupidi, e quelli altri adiverenti e satisfatti. E perché le azioni di costui furono grandi in un Principe nuovo, io voglio mostrare brevemente quanto egli seppe bene usare la persona della Volpe del Lione, le quali nature dico come di sopra essa necessaria imitare ad un Principe. Conosciuta Severo la ignavia di Iuliano Imperatore, persuase al suo esercito, del quale era in schiavone capitano, che egli era bene andare a Roma a vendicare la morte di Pertinace, il quale era stato morto dalla guardia imperiale, e sotto questo colore, senza mostrare di aspirare all'imperio, mosse l'esercito contro a Roma, e fu prima in Italia che si sapesse la sua partita. Arrivato a Roma fu dal Senato per timore eletto imperatore, e morto Giuliano. Restavano a Severo dopo questo principio due difficoltà a volersi insignorire di tutto lo Stato. L'una in Asia, dove Nigro, capo degli eserciti asiatici, si era fatto chiamare imperatore. L'altro imponente di Albino, il quale ancora lui aspirava all'imperio, e perché giudicava pericoloso scoprirsi nemico a tutti i duei, deliberò di assaltare Nigro, e ingannare Albino. Al quale scrisse, come essendo dal Senato eletto imperatore, voleva partecipare a quella dignità con lui, e mandogli il titolo di Cesare, e per deliberazione del Senato se lo aggiunse a collega, le quali cose furono accettate dall'Albino per vere. Ma poiché Severo ebbe vinto e morto Nigro, e pacate le cose orientali, ritornatosi a Roma, si querelò in Senato di Albino, che, come poco conoscente dei benefici ricevuti da lui, aveva a tradimento cerco di ammazzarlo, e per questo era necessitato andare a punire la sua ingratitudine. Di poi andò a trovarlo in Francia, e gli torse lo Stato e la vita. Chi esaminerà dunque tritamente le azioni di costui, lo troverà un ferocissimo lione e un'astutissima volpe, e vedrà quello temuto e riverito da ciascuno, e dagli eserciti non odiato, e non si maraviglierà, se lui, uomo nuovo, harà possuto tenere tanto imperio, perché la sua grandissima reputazione lo difese sempre da quell'odio che i popoli per le sue rapine avevano potuto concipere. Ma Antonino suo figliolo fu ancor lui uomo eccellentissimo, ed aveva in sé parti eccellentissime, che lo facevano ammirabile nel cospetto dei popoli, e grato ai soldati, perché era uomo militare, sopportantissimo di ogni fatica, disprezzatore di ogni cibo delicato, di ogni altra ammollizie. E qualcosa lo faceva amare da tutti gli eserciti. Non di meno la sua feroce crudeltà fu tanta, e si inaudita, per avere dopo molte occisioni particolari morto gran parte del popolo di Roma, e tutto quello d'Alessandria, che diventò odiosissimo a tutto il mondo, e cominciò ad essere temuto da quelli ancora che egli aveva intorno, in modo che fu ammazzato da un centurione in mezzo del suo esercito. Dov'è da notare che questi simili morti, le quali seguitano per deliberazione di un animo deliberato e ostinato, non si possono da Principe evitare, perché ciascuno che non si curi di morire, lo può fare, ma deve bene il Principe temerne meno, perché le sono rarissime. Deve solo guardarsi di non fare ingiuria grave da alcuno di coloro dei quali si serve, e che egli addi intorno al servizio del suo Principato, come aveva fatto Antonino, il quale aveva morto contumeliosamente un fratello di quel centurione, e lui ogni giorno minacciava, e niente di meno lo teneva alla guardia del suo corpo. Il che era partito temerario, e da rovinarvi, come gli intervenne. Ma veniamo a comodo, al quale era facilità grande tenere l'imperio, per averlo ereditario, essendo figliuolo di Marco. E solo gli bastava seguire le vestigia del padre, e ai popoli e a soldati, avrebbe satisfatto. Ma essendo di animo crudele e bestiale, per poter usare la sua rapacità nei popoli, si volse ad intrattenere gli eserciti, e fargli licenziosi. Dall'altra parte, non tenendo la sua dignità, gli scendendo spesso negli teatri a combattere con i gladiatori, e facendo altre cose velissime e poco degne della majestà imperiale, diventò vile nel cospetto dei soldati. Ed essendo odiato da una parte, e dall'altra disprezzato, fu conspirato contro di lui, e morto. Restaci a narrare le qualità di Massimino. Costui fu uomo bellicosissimo, ed essendo gli eserciti infastiditi dalle mollizie di Alessandro, del quale ho di sopra discorso, morto lui, lo elessero all'imperio, il quale non molto tempo possedette, perché due cose lo fecero odioso e disprezzato, l'una esser lui vilissimo per aver guardate le pecore in traccia. La qualcosa era per tutti notissima, e gli faceva una grande dignazione nel cospetto di ciascuno. L'altra, perché avendo nell'ingresso del suo Principato, differito l'andare a Roma, ed entrare nella possessione della sedia imperiale, aveva dato opinione di crudelissimo, avendo per gli suoi prefetti in Roma, e in qualunque luogo dell'imperio, esercitato molte crudeltà. A tal che commosso tutto il mondo dallo sdegno per la viltà del suo sangue, e dall'altra parte dall'odio per la paura della sua ferocia, prima l'Africa, di poi il senato con tutto il popolo di Roma, e tutta l'Italia, gli cospirò contro. Al che si aggiunse il suo proprio esercito, il quale campeggiando Aquileia, e trovando difficoltà nell'espugnazione, infastidito della crudeltà sua, e per vedergli tanti nemici, temendolo meno, lo ammazzò. Io non voglio ragionare né di Elio Gabalo, né di Macrino, né di Iuliano, i quali, per essere al tutto vili, si spensero subito, ma avrò la conclusione di questo discorso, e dico che li Principi dei nostri tempi hanno meno questa difficoltà di satisfare straordinariamente soldati nei governi loro, perché nonostante che si abbia da avere a quelli qualche considerazione, pure si risolve presto, per non avere alcuno di questi Principi eserciti insieme, che siano inveterati con i governi e le amministrazioni delle province, come erano gli eserciti dell'Imperio Romano. E però, se allora era necessario soddisfare soldati più che i popoli, era perché i soldati potevano più che i popoli. Ora è più necessario a tutti i Principi, eccetto che al Turco e al Soldano, soddisfare i popoli che i soldati, perché i popoli possono più che questi. di che io ne eccetto il Turco, tenendo sempre quello intorno dodicimila fanti e quindicimila cavalli, da quali dipende la sicurtà e la fortezza del suo Regno, ed è necessario che posposto ogni altro rispetto dei popoli, se li mantenga amici. Simile è il Regno del Soldano, quale essendo tutto in mano dei soldati, conviene che ancora lui, senza rispetto dei popoli, se li mantenga amici. Ed avete a notare che questo stato del Soldano, è disforme da tutti gli altri Principati, perché egli è simile al Pontificato Cristiano, il qual non si può chiamare né Principato ereditario, né Principato Nuovo, perché non i figlioli del Principe morto rimangono eredi e signori, ma colui che è eletto a quel grado da coloro che ne hanno autorità. Ed essendo questo Ordine anticato, non si può chiamare Principato Nuovo, perché in quello non sono alcune di quelle difficoltà che sono né Nuovi. Perché sebbene il Principe è nuovo, gli orni di quello stato sono vecchi, e ordinati a riceverlo come se fosse loro Signore ereditario. Ma tornando alla materia nostra, dico che qualunque considererà a sovraddetto discorso, vedrà o l'odio, o il dispregio, essere stato causa della rovina di quelli imperatori pre-nominati, e conoscerà ancora donde nacque che parte di loro, procedendo in un modo, e parte al contrario, in qualunque di quelli uno ebbe felice, e gli altri infelice fine. Perché a Pertinace ed Alessandro, per essere Principi Nuovi, fu inutile e dannoso voler imitare Marco, che era nel Principato ereditario, e similmente a Caracalla, Comodo e Massimino, essere stata cosa perniziosa imitar Severo, per non avere avuto tante virtù che bastasse asseguitare le vestigia sue. Pertanto un Principe Nuovo in un Principato non può imitare le azioni di Marco, né ancora è necessario imitare quelle di Severo, ma deve pigliare di Severo quelle parti che per fondare il suo Stato sono necessarie, e da Marco quelle che sono convenienti e gloriose a conservare uno Stato, che sia di già stabilito e fermo. Fine del Capitolo diciannove Capitoli da venti a ventidue del Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo XX Se le fortezze e molte altre cose, che spesse volte i Principi fanno, sono utili o dannose. Alcuni Principi, per tenere sicuramente lo Stato, hanno disarmato i loro sudditi. Alcuni altri hanno tenute divise in parti le terre soggette. Alcuni altri hanno nutrito nemicizie contro a sé medesimi. Alcuni altri si sono volti a guadagnarsi quelli che egli erano sospetti nel principio del suo Stato. Alcuni hanno edificato fortezze. Alcuni le hanno rovinate e distrutte. E benché di tutte queste cose non si possa dare determinata sentenza, se non si viene su particolare di questi Stati, dove si avesse da pigliare alcuna simile deliberazione, non di meno io parlerò in quel modo largo, che la materia per sé medesima sopporta. Non fu mai adunque che un Principe nuovo disarmasse i suoi sudditi. Anzi, quando li ha trovati disarmati, li ha sempre armati. Perché armandosi quelle arme diventano tue, diventano fedeli quelli che ti sono sospetti, e quelli che erano fedeli si mantengono. E gli sudditi tuoi si fanno tuoi partigiani. E perché tutti i sudditi non si possono armare, quando si benefichino quelli che tu armi, con gli altri si può fare più sicurtà. E quella diversità del procedere che conoscono in loro, gli fa tuoi obbligati. Quegli altri ti scusano, giudicando essere necessario quelli aver più merito, che hanno più pericolo e più obbligo. Ma quando tu gli disarmi, tu incominci a offendergli, e mostrare che tu abbi in loro diffidenza, o per viltà, o per poca fede. E l'una e l'altra di queste opinioni concipe odio contro di te. E perché tu non puoi stare disarmato, conviene che ti volti alla milizia mercenaria, della quale di sopra abbiamo detto quale sia. E quando essa fosse buona, non può essere tanta, che ti difenda da nemici potenti e da sudditi sospetti. Però, come io ho detto, un Principe nuovo in un nuovo Principato sempre vi ha ordinato l'arme. Di questi esempi son piene le storie. Ma quando un Principe acquista uno Stato nuovo, che come membro si aggiunga al suo vecchio, allora è necessario disarmare quello Stato, eccetto quelli che nell'acquistarlo si sono per te scoperti. E questi ancora con il tempo ed occasione è necessario fargli molli ed effeminati, ed ordinarsi in modo che tutte l'arme del tuo Stato siano in quelli soldati tuoi propri, che nello Stato tuo antico vivano appresso di te. Solevano gli antichi nostri, e quelli che erano stimati savi, dire, com'era necessario tenere Pistoia con le parti, e Pisa con le fortezze. E per questo nutrivano in qualche terra lor suddita le differenze per possederla più facilmente. Questo in quelli tempi che Italia era in un certo modo bilanciata, doveva essere ben fatto. Ma non mi pare si possa dare oggi per precetto, perché io non credo che le divisioni fatte facino mai bene alcuno. Anzi, è necessario, quando il nemico si accosta, che le città divise si perdino subito. Perché sempre la parte più debile si accosterà alle forze esterne, e l'altra non potrà reggere. I viniziani, mossi, come io credo, dalle ragioni sopradette, nutrivano le sette guelfe ghibelline nelle città loro suddite. E perché non gli lasciassero mai venire al sangue, pure nutrivano fra loro questi dispareri a ciò che, occupati quelli cittadini in quelle loro differenze, non si muovessero contro di loro. Il che, come si vide, non tornò poi loro a proposito, perché, essendo rotti a vai là, subito una parte di quelle prese a ardire, e tolsono loro tutto lo Stato. Arguiscono, pertanto, simili modi debolezza del Principe, perché in un Principato Gagliardo mai si permetteranno tale divisioni, perché le fanno solo profitto a tempo di pace, potendosi, mediante quelle, più facilmente maneggiare i sudditi. Ma venendo alla guerra, mostra a simile ordine la fallacia sua. Senza dubbio li Principi diventano grandi, quando superano le difficoltà, e le posizioni che son fatte loro. E però la fortuna, massime quando vuole far grande un Principe nuovo, il quale ha maggior necessità di acquistare reputazione che un ereditario, gli fa nascere dei nemici, e gli fa fare delle imprese contro, acciò che quello abbia cagione di superarle, e super quella scala, che gli hanno portato i nemici suoi salir più alto. E però molti giudicano che un Principe savio, quando ne abbia l'occasione, deve nutrirsi con astuzia qualche nemicizia, acciò che, oppressa quella, ne seguiti maggiore sua grandezza. Hanno i Principi, e specialmente quelli che son nuovi, trovato più fede e più utilità in quelli uomini che nel principio del loro Stato son tenuti sospetti, che in quelli che nel principio erano confidenti. Pandolfo Petrucci, Principe di Siena, reggeva lo Stato suo più con quelli che furono sospetti, che con gli altri. Ma di questa cosa non si può parlare largamente, perché è la varia secondo il subietto. Solo dirò questo, che quelli uomini che nel principio di un Principato erano stati nemici, se sono di qualità che a mantenersi abbiano bisogno di appoggio, sempre il Principe con facilità grandissima se li potrà guadagnare. E loro maggiormente son forzati a servirlo con fede, quando conoscono esser loro più necessario cancellare con l'opera quell'opinione sinistra che si aveva di loro. E così il Principe ne trae sempre più utilità che di coloro, i quali, servendolo con troppa sicurtà, trascurrono le cose sue. E poiché la materia lo ricerca, non voglio lasciare indietro ricordare a un Principe che ha preso uno stato di nuovo, mediante i favori intrinsechi di quello, che consideri bene qual cagione abbia mosso quelli che l'hanno favorito a favorirlo. E se ella non è affezione naturale verso di quello, ma fosse solo perché quelli non si contentavano di quello stato, con fatica e difficoltà grande se li potrà mantenere amici, perché fia impossibile che lui possa contentarli. E discorrendo bene con quegli esempi che dalle cose antiche e moderne si traccano la cagione di questo, vedrà essere molto più facile guadagnarsi amici quelli uomini che dello stato innanzi si contentavano, e però erano suoi nemici, che quelli i quali, per non se ne contentare, gli diventarono amici, e favorironlo all'occuparlo. E' stata consettudine de' Principi, per poter tenere più sicuramente lo stato loro, edificare fortezze che siano briglia e freno di quelli che disegnassino fare loro contro, ed avere un rifugio sicuro da un primo impeto. Io lodo questo modo, perché li è usitato anticamente. Non di meno Messer Niccolò Vitelli, nei tempi nostri, si è visto disfare due fortezze in città di Castello, per tenere quello stato. Guidubaldo, duca di Urbino, ritornato nel suo stato, donde da Cesare Borgia era stato cacciato, rovinò da fondamenti tutte le fortezze di quella provincia, e giudicò senza quelle più difficilmente riperdere quello stato. I venti vogli, ritornati in Bologna, usarono simil termine. Sono dunque le fortezze utili o no secondo li tempi. E se ti fanno bene in una parte, ti offendono in un'altra. E posso discorrere questa parte così? Quel Principe che ha più paura de' popoli che de' forestieri, deve fare le fortezze, ma quello che ha più paura de' forestieri che de' popoli, deve lasciarle indietro. Alla Casa Sforzesca ha fatto e farà più guerra al Castello di Milano, che vidificò Francesco Sforza, che n'acun altro disordine di quello stato. Però la miglior fortezza che sia, è non essere odiato da popoli, perché ancora che tu abbi le fortezze, e il popolo ti abbi in odio, le non ti salvano, perché non mancano mai a popoli, preso che egli hanno l'armi, forestieri che gli soccorrino. Nei tempi nostri non si vede che quelle abbi in fatto profitto ad alcun Principe, se non alla Contessa di Furlì, quando fu morto il conte Girolamo suo consorte, perché mediante quella poté fuggire l'impito popolare, ed aspettare il soccorso di Milano, e recuperare lo Stato. E li tempi stavano allora in modo, che il forestiero non poteva soccorrere il popolo, ma di poi valsono ancora poco a lei, quando Cesare Borgia l'assaltò, e che il popolo nemico suo si congiunse col forestiero. Pertanto, ed allora e prima, sarei stato più sicuro a lei non essere odiata dal popolo, che avere le fortezze. Considerata dunque queste cose, io loderò chi farà fortezze, e chi non le farà, e biasimerò qualunque, fidandosi di quelle, stimerà poco l'essere odiato da popoli. Fine del Capitolo venti Capitolo ventuno Come si debba governare un Principe per acquistarsi reputazione Nessuna cosa fa tanto stimare un Principe, quanto fanno le grande imprese, e il dare di sé esempi rari. Noi abbiamo nei nostri tempi Ferrando re d'Aragona, presente re di Spagna. Costui si può chiamare quasi Principe nuovo, perché d'un re debole è diventato per fame e per gloria il primo re dei Cristiani. E se considererete le azioni sue, le troverete tutte grandissime, e qualcuna straordinaria. Egli, nel principio del suo regno, assaltò la granata, e quella impresa fu il fondamento dello stato suo. In prima Eila fece ozioso, e senza sospetto di essere impedito, tenne occupati in quella gli animi de baron di Castiglia, li quali, pensando a quella guerra, non pensavano ad innovare, e lui acquistava in questo mezzo reputazione e imperio sopra di loro, che non se ne accorgevano. Potè nutrire con danale della Chiesa de popoli gli eserciti, e fare un fondamento con quella guerra lunga la milizia, la quale di poi lo hanno orato. Oltre a questo, per poter intraprendere maggiori imprese, servendosi sempre della Religione, si volse a una pietosa crudeltà, cacciando e spogliando il suo regno de Marrani. Ne può esser questo esempio più mirabile, né più raro. Assaltò sotto questo medesimo mantello l'Africa, fece l'impresa d'Italia, ha ultimamente assaltato la Francia, e così sempre ordito a cose grandi, le quali hanno sempre tenuto sospese da ammirati gli animi de sudditi, ed occupati nell'evento di esse. E sono nate queste sue azioni, in modo l'una dall'altra, che non hanno dato mai spazio agli uomini di quetare ed operargli contro. Giova assai ancora ad un Principe dare di sé esempi rari circa il Governo di dentro, simili a quelli che si narrano di Messer Bernalò di Milano, quando si ha l'occasione di qualcuno che operi qualche cosa straordinaria, o in bene o in male, nella vita civile, e trovare un modo circa premiarlo o punirlo, di che sabbia parlare assai. E soprattutto un Principe si debbe ingegnare, dare di sé in ogni sua azione fama di grande ed eccellente. E' ancora stimato un Principe, quando egli è vero amico o vero nemico, cioè quando senza alcun rispetto, si scuopre in favore di alcuno contro un altro. Il quapartito fia sempre più utile che star neutrale, perché se i due impotenti i tuoi vicini vengono alle mani, o essi sono di qualità che vincendo un di quelli tu abbi da temere del vincitore, o no. In qualunque di questi due casi ti sarà sempre più utile lo scuopirti, e fare buona guerra, perché nel primo caso, se tu non ti scuopri, sarai sempre preda di chi vince, con piacere e soddisfazione di colui che è stato vinto, e non harai ragione né cosa alcuna che ti difenda, né chi ti riceva. Perché chi vince non vuole amici sospetti, e che nelle avversità non aiutino. Chi perde non ti riceve, per non aver tu voluto con l'arma in mano correre la fortuna sua. Era passato Antioco in Grecia, messovi dagli Etoli per cacciarne i Romani. Mandò Antioco oratori agli Achei, che erano amici dei Romani, a confortarli a star di mezzo, e dall'altra parte i Romani gli persuadevano a pigliar l'armi per loro. Venne questa cosa da liberarsi nel concilio degli Achei, dove il legato d'Antioco gli persuadeva a stare neutrali, a che il legato Romano rispose. Quanto alla parte che si dice essere ottimo ed utilissimo allo stato vostro il non vi tromettere nella guerra nostra, niente vi è più contrario. impero che, non vi ci intromettendo senza grazia e senza reputazione alcuna, resterete premi del vincitore, e sempre interverrà che quello che non ti è amico ti richiederà della neutralità, e quello che ti è amico ti ricercherà che ti scuopra con l'armi. Ed i Principi mal risoluti, per fuggire i presenti pericoli, seguono il più delle volte quella via neutrale, ed il più delle volte rovinano. Ma quando il Principe si scuopre gagliardamente in favore di una parte, se colui con chi tu aderisci vince, ancorché sia potente che tu rimanga a sua discrezione, egli a te co' obbligo, e vi è contratto l'amore, e gli uomini non sono mai si disonesti che con tanto esempio di ingratitudine ti opprimessero. Di poi le vittorie non sono mai si prospere, che il vincitore non abbia da avere qualche rispetto e massimi alla giustizia. Ma se quello con il quale tu aderisci perde, tu si è ricevuto da lui, e mentre che può ti aiuta, e diventi compagno di una fortuna che può risorgere. Nel secondo caso, quando quelli che combattono insieme sono di qualità, che tu non abbia da temere di quello che vince, tanto più è gran prudenza lo aderire, perché tu vai alla rovina d'uno con l'aiuto di chi lo dovrebbe salvare, se fosse savio, e vincendo rimane la tua discrezione, ed è impossibile che con l'aiuto tuo non vinca. E qui è da notare che un Principe deve avvertire non far mai compagnia con uno più potente di sé, per offendere altri, se non quando la necessità lo stringe, come di sopra si dice, perché vincendo lui tu rimane a sua discrezione, ed i Principi debbono fuggire quanto possono lo stare a discrezioni d'altri. I Veneziani si accompagnarono con Francia contro il Duca di Milano, e potevano fuggire di non fare quella compagnia, di che ne risultò la rovina loro. Ma quando non si può fuggirla, come intervenne a Fiorentini, quando il Papa e Spagna andarono contro gli eserciti ad assaltare la Lombardia, allora videva il Principe aderire per le superadette ragioni. Ne creda mai alcuno Stato a poter pigliare partiti sicuri, anzi, pensi davvero a prenderli tutti dubbi, perché si trova questo nell'ordine delle cose, che mai si cerca fuggire uno inconveniente, che non si incorre in un altro. Ma la prudenza consiste in saper cognoscere la qualità degli inconvenienti, e prendere il manco tristo per buono. Deve ancora un Principe mostrarsi amatore delle virtù, e onorare gli eccellenti in ciascuna arte. Appresso deve animare i suoi cittadini di poter quietamente esercitare gli esercizi loro, e nella mercanzia, e nell'agricoltura, e in ogni altro esercizio degli uomini, acciò che quello non si astenga di ornare le sue possessioni, per timore che non gli siano tolte, e quell'altro di aprire un traffico per paura delle taglie. Ma deve preparare premi a chi vuol fare queste cose, e da qualunque pensi in qualunque modo di ampliare la sua città o il suo Stato. Deve oltre a questo, nei tempi convenienti dell'anno, tenere occupati gli popoli con feste e spettacoli, e perché ogni città è divisa o in arti o in tribù, deve tener conto di quelle università, ragunarsi con loro qualche volta, dare di sé esempio di umanità e magnificenza, tenendo non di meno sempre ferma la majestà della dignità sua, perché questo non si vuole mai che manchi in cosa alcuna. Fine del Capitolo ventuno Capitolo ventidue Degli Segretari de Principi Non è di poca importanza ad un Principe la elezione dei Ministri, gli quali sono buoni o no, secondo la prudenza del Principe. E' la prima cognitura che si fa di un Signore del cervello suo, è vedere gli uomini che lui ha d'intorno, e quando sono sufficienti e fedeli, sempre si può riputarlo sabio, perché ha saputo conoscerli sufficienti, e mantenerseli fedeli. Ma quando siano altrimenti, sempre si può fare non buono giudizio su di lui, perché il primo errore che fa, lo fa in questa elezione. Non era alcuno che conoscesse Messere Antonio d'Avenafro, per Ministro di Pandolfo Petrucci, Principe di Siena, che non giudicasse Pandolfo essere prudentissimo uomo, avendo quello per suo Ministro. E perché sono di tre generazioni cervelli, l'uno intende per sé, l'altro intende quanto da altri gli è mostro, il terzo non intende né per sé stesso né per dimostrazione d'altri. Quel primo è eccellentissimo, il secondo eccellente, il terzo inutile. Conveniva pertanto di necessità, che se Pandolfo non era nel primo grado, fusse nel secondo, perché ogni volta che uno ha il giudiceo di conoscere, il bene e il male che un fa e dice, ancora che da sé non abbia invenzione, conosce le opere triste e le buone del Ministro, e quelle esalta e le altre corregge. E il Ministro non può sperare di ingannarlo e mantiensi buono. Ma come un Principe possa conoscere il Ministro, c'è questo modo che non falla mai. Quando tu vedi il Ministro pensare più a sé che a te, e che in tutte le azioni vi ricerca l'utile suo, questo tale così fatto mai non fia buon Ministro, né mai te ne potrai fidare, perché quello che ha lo Stato di uno in mano non deve mai pensare a sé, ma al Principe, e non gli ricordare mai cosa che non appartenga a lui. E dall'altra parte il Principe, per mantenerlo buono, deve pensare al Ministro, onorandolo, facendolo ricco, obbligandoselo, partecipandogli gli onori e carichi, a ciò che gli assai onori, le assai ricchezze concessi, siano causa che egli non desideri altri onori e ricchezze. E gli assai carichi gli faccino temere le mutazioni, conoscendo non poter reggersi senza lui. Quando adunque i Principi e li Ministri sono così fatti, possono confidare l'uno dell'altro, quando altrimenti il fine sarà sempre dannoso, o per l'uno o per l'altro. Fine del Capitolo XXII Capitoli da XXIII a XXVI De Il Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni, o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Rezzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo XXIII Come si debbino fuggire gli adulatori Non voglio lasciare indietro un capo importante, ed un errore, dal quale i Principi con difficoltà si difendono, se non sono prudentissimi, o se non hanno buona lezione. E questo è quello degli adulatori, deli quali le corti sono piene, perché gli uomini si compiacciono tanto nelle cose loro proprie, e in modo vi si ingannano, che con difficoltà si difendono da questa peste. E da volersene difendere, si porta pericolo di non diventare disprezzato. Perché non c'è altro modo a guardarsi dalle adulazioni, se non che gli uomini intendino che non ti offendano a dirti il vero. Ma quando ciascuno può dirti il vero, ti manca la riverenza. Pertanto un Principe prudente deve tenere un terzo modo, e leggendo nel suo Stato uomini savi, e solo a quelli deve dare libero arbitrio a parlargli la verità, e di quelle cose sole, che lui domanda, e non di altro. Ma deve domandargli di ogni cosa, e udire le opinioni loro, di poi deliberare da sé a suo modo, e con questi consigli, e con ciascuno di loro, portarsi in modo che ognuno conosca che quanto più liberamente si parlerà, tanto più gli sarà accettato. Fuori di quelli, non volere udire alcuno, andar dietro alla cosa deliberata, ed essere ostinato nelle deliberazioni sue. Chi fa altrimenti, o precipita per gli adulatori, o si muta spesso per la variazione dei pareri, di che nasce la poca estimazione sua. Io voglio a questo proposito addurre un esempio moderno. Preluca, uomo di Massimiliano, presente Imperatore, parlando di Sua Maestà, disse come non si consigliava con persona, e non faceva mai d'alcuna cosa a suo modo. Il che nasceva dal tenere contrario termine al sopradetto. Perché l'Imperatore, uomo segreto, non comunica di Suoi segreti con persona, non ne piglia parere. Ma come nel mettergli ad effetto si cominciano a conoscere e a scoprire, gli incominciano ad essere contraddetti da coloro che egli ha d'intorno, e quello come facile se ne stoglie. Di qui nasce che quelle cose che fallo un giorno distrugge l'altro, e che non si intenda mai quello che vogli o disegni fare, e che sopra le sue deliberazioni non si può fondare. Un Principe, pertanto, deve consigliarsi sempre, ma quando lui vuole, non quando altri vuole. Anzi, deve torre l'animo a ciascuno di consigliarlo d'alcuna cosa, se non gliene domanda. Ma lui deve ben essere largo domandatore, e di poi, circa le cose domandate, paziente auditore del vero. Anzi, intendendo che alcuno, per qualche rispetto, non glielo dica, turbarsene. E perché alcuni stimano che alcun Principe, il quale dà di sé opinione di prudente, sia così tenuto non per sua natura, ma per i buoni consigli che lui ha d'intorno, senza dubbio si ingannano. Perché questa non falla mai, ed è regola generale che un Principe, il quale non sia savio per sé stesso, non può essere consigliato bene, se già a sorte non si rimettesse in un solo che al tutto lo governasse, che fosse uomo prudentissimo. In questo caso potria bene esser ben governato, ma durerebbe poco, perché quel Governatore, in breve tempo, gli dovrebbe lo Stato. Ma consigliandosi con più d'uno, un Principe che non sia savio, non harà mai uniti consigli, né saprà per sé stesso unirgli. Dei consiglieri ciascuno penserà alla proprietà sua, ed egli non gli saprà correggere né cognoscere. E non si possono trovare altrimenti, perché gli uomini sempre ti riusciranno tristi, se da una necessità non sono fatti buoni. Però si conchiude, che di buoni consigli, da qualunque venghino, conviene naschino dalla prudenza del Principe, e non la prudenza del Principe dai buoni consigli. Fine del Capitolo ventitré Capitolo ventiquattro Perché i Principi d'Italia abbino perduto i loro Stati. Le cose sopradette, osservate prudentemente, fanno parere un Principe nuovo antico, e lo rendono subito più sicuro, e più fermo nello Stato, che se vi fosse anticato dentro. Perché un Principe nuovo è molto più osservato nelle sue azioni, che un ereditario. E quando le son conosciute virtuose, si guadagnano molto più gli uomini, e molto più gli obbligano, che il sangue antico. Perché gli uomini sono molto più presi dalle cose presenti, che dalle passate. E quando nelle presente i trovano il bene, vi si godono, e non cercano altro. Anzi, pigliano ogni difesa di Lui, quando il Principe non manchi negli altre cose a sé medesimo. E così ha radduplicata gloria di aver dato principio ad un Principato nuovo, ed ornatolo, e corroboratolo di buone leggi, di buone armi, di buoni amici, e di buoni esempi. Come quello ha radduplicata vergogna, che è nato Principe, e per sua poca prudenza l'ha perduto. E se si considera quelli signori, che in Italia hanno perduto lo Stato nei nostri tempi, come il Re di Napoli, Duca di Milano, e altri, si troverà in loro prima un comune difetto, quanto all'armi, per le cagioni che di sopra a lungo si sono discorse. Di poi si vedrà alcun di loro, o che avrà avuto nemici i popoli, o se avrà avuto amico il popolo, non si sarà saputo assicurare de' grandi, perché senza questi difetti non si perdono gli Stati, che abbino tanti nervi, che possino tenere un esercito alla campagna. Filippo Macedone, non il padre di Alessandro Magno, ma quello che fu da Tito Quinzio vinto, aveva non molto Stato rispetto alla grandezza dei Romani, e di Grecia, che l'assaltò. Niente di meno, per essere uomo militare, e che sapeva intrattenere i popoli, ed essicurarsi de' grandi, sostenne più anni la guerra contro di quelli, e se alla fine perdere il dominio di qualche città, gli rimase non di manco il Regno. Pertanto questi nostri Principi, i quali molti anni erano stati nel loro Principato, per averlo di poi perso, non accusino la fortuna, ma legnavi a loro, perché non avendo mai pensato nei tempi quieti, che possino mutarsi, il che è comune difetto degli uomini non far conto nella bonaccia della tempesta, quando poi vennero i tempi avversi, pensarono a fuggirsi, non a difendersi, e sperarono che i popoli, infastiditi per la insolenza dei vincitori, gli richiamassero. Il quale partito, quando mancano gli altri, è buono, ma è ben male aver lasciato gli altri remedi per quello, perché non si vorrebbe mai cadere per credere poi trovare chi ti ricolga, il che, o non avviene, o se gli avviene, non è con tua sicurtà, per essere quella difesa vile, e non dipendere da te. E quelle difese solamente sono buone, certe, e durabili, che dipendono da te proprio, e della virtù tua. Fine del Capitolo ventiquattro Capitolo venticinque Quanto possa nelle umane cose la fortuna, e in che modo se gli possa ostare. Non mi è incognito, come molti hanno avuto e hanno opinione, che le cose del mondo siano in modo governate dalla fortuna, e da Dio, che gli uomini con la prudenza loro non possino correggerle, anzi non vi abbino rimedio alcuno. E per questo potrebbero giudicare che non fosse da insudare molto nelle cose, ma lasciassi governare dalla sorte. Quest'opinione è suta più creduta nei nostri tempi per la variazione delle cose grandi, che si sono viste, e veggonsi ogni di fuori di ogni umana cognettura. Al che, pensando io qualche volta, sono in qualche parte inchinato nell'opinione loro. Non di manco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, giudico potere essere vero, che la fortuna si arbitra della metà delle azioni nostre, ma che ancora ella ne lasci governare l'altra metà, o poco meno, a noi. Ed assomiglio quella ad un fiume rovinoso, che quando essi adira, allaga i piani, rovina gli arbori e gli edifici, lieva da questa parte terreno, ponendolo a quell'altra. Ciascuno gli fugge davanti, ognuno cede al suo furore, senza potervi ostare. E benché sia così fatto, non resta però che gli uomini, quando sono tempi quieti, non mi possino fare provvedimenti, e con ripari e con argini, in modo che, crescendo poi, o egli anderebbe per un canale, o l'impeto suo non sarebbe si licenzioso, né si dannoso. Similmente interviene della fortuna, la quale dimostra la sua potenza, dove non è ordinata virtù a resistere, e qui rivolta i suoi impeti, dove la sa che non sono fatti gli argini, né i ripari a tenerla. E se voi considererete l'Italia, che è la sede di queste variazioni, e quella che ha dato loro il moto, vedrete essere una campagna senza argini, e senza alcun riparo. Che se la fosse riparata da convenienti virtù, come è la Magna, la Spagna e la Francia, questa inondazione non avrebbe fatto le variazioni grandi che là, o là non ci sarebbe venuta. E questo voglio basta aver detto, quanto all'opporso la fortuna in universale. Ma restringendomi più al particolare, dico come si vede oggi questo Principe felicitare, e domani rovinare, senza vederle aver mutato natura o qualità alcuna. Il che credo nasca prima dalle cagioni che si sono lungamente per lo addietro trascorse, cioè che quel Principe che si appoggia a tutto in sulla fortuna, rovina come quella varia. Creda ancora che sia felice quello, il modo del cui procedere si riscontra con la qualità dei tempi, e similmente sia infelice quello, da cui procedere si discordano i tempi. Perché si vede, gli uomini, nelle cose che gli inducono al fine, quelle ciascuno innanzi, cioè glorie e ricchezze, procedervi variamente, l'uno con rispetti, l'altro con impeto, l'uno per violenza, l'altro per arte, l'uno con pazienza, l'altro col suo contrario, ciascuno con questi diversi modi vi può pervenire. E vedesi ancora due rispettivi, l'uno pervenire al suo disegno, l'altro no, e similmente due ugualmente felicitare con due diversi studi, essendo l'uno rispettivo, l'altro impetuoso. Il che non nasce da altro, se non da qualità di tempi, che si conformino o no, col procedere loro. Di cui nasce quello, ho detto, che due diversamente operando, sortiscano il medesimo effetto, e due ugualmente operando, l'uno si conduce al suo fine, l'altro no. Da questo ancora dipende la variazione del bene, perché se a uno che si governa con rispetto e pazienza, i tempi e le cose girano in modo che il governo suo sia buono, esso viene felicitando. Ma se di tempi e le cose si mutano, egli rovina, perché non muta modo di procedere. Né si trova uomo sì prudente, che si sappia accordare a questo, sì perché non si può deviare da quello, a che la natura li inclina, sì ancora perché avendo uno sempre prosperato camminando per una via, non si può persuadere che sia bene partirsi da quella. E però l'uomo rispettivo, quando gli è tempo di venire all'impeto, non lo sa fare, donde egli rovina, che se si mutasse natura con i tempi e con le cose, non si muterebbe fortuna. Papa Giulio II procedette in ogni sua azione impetuosamente, e trovò tanto i tempi e le cose conformi a quel suo modo di procedere, che sempre sortì felice fine. Considerate la prima impresa che fece di Bologna, vivendo ancora Messer Giovanni Bentivogli. I viniziani non se ne contentavano, il re di Spagna, similmente con Francia, aveva ragionamento di tale impresa, e lui, non di manco, con la sua ferocità ed impeto, si mosse personalmente a quell'espedizione, la qual mossa fece star sospesi e fermi, e Spagna e i viniziani. Quelli per paura, quell'altro per il desiderio di recuperare tutto il regno di Napoli. E dall'altra parte si tirò dietro il re di Francia, perché veduto da quel re mosso, e desiderando farselo amico per abbassare i viniziani, giudicò non poterli negare le sue genti, senza ingiuriarlo manifestamente. Condusse adunque Giulio con la sua mossa impetuosa quello che mai altro Pontefice con tutta l'umana prudenza non avria condutto. Perché se egli aspettava di partirsi da Roma con le conclusioni ferme, e tutte le cose ordinate, come qualunque altro Pontefice avrebbe fatto, mai non gli riusciva. Perché il re di Francia avria trovato mille scuse, e gli altri gli avrebbero amesso mille paure. Gli voglio lasciare le altre sue azioni, che tutte sono state simili, e tutti gli sono successe bene, e la brevità della vita non gli ha lasciato sentire il contrario. Perché se fossero sopravvenuti tempi, che fosse bisognato procedere con rispetti, ne seguiva la sua rovina, perché mai non avrebbe deviato da quelli modi a quale la natura lo inchinava. Conchiuda dunque, che variando la fortuna, e gli uomini stando nel loro modi ostinati, sono felici mentre concordano insieme, e come discordano sono infelici. Io giudico ben questo, che sia meglio essere impetuoso che rispettivo, perché la fortuna è donna, ed è necessario, volendola tenere sotto, batterla ed urtarla, e si vede che la si lascia più vincere da questi, che da quelli che freddamente procedano. E però, sempre come donna, è amica dei giovani, perché sono meno rispettivi, più feroci, e con più audacia la comandano. Fine del Capitolo 25 Capitolo 26 Esortazione a liberare la Italia da barbari Considerata dunque tutte le cose di sopra discorse, e pensando me come desimo se al presente in Italia correvano tempi ad onorare un Principe nuovo, E se ci era materia che desse occasione a uno prudente e virtuoso, di introdurvi nuova forma che facesse onore a lui, e bene alla università degli uomini di quella, mi pare concorrono tante cose in beneficio ad un Principe nuovo, che non so qualmai tempo fosse più apto a questo. E se, come io dissi, era necessario, volendo vedere la virtù di Moisé, che il popolo di Israele fusse schiavo in Egitto, e da conoscere la grandezza e l'animo di Ciro, che i Persi fussero oppressi da Medi, e ad illustrare l'eccellenza di Teseo, che gli Atenesi fussero dispersi, Così al presente, volendo conoscere la virtù di uno Spirito Italiano, era necessaria che l'Italia si conducesse nei termini presenti, e che la fosse più schiava che gli Ebrei, più serva che i Persi, più dispersa che gli Atenesi, senza capo, senza ordine, battuta, spogliata, lacera, corsa, ed avesse sopportato di ogni sorta rovine. E benché infino a qui si sia mostro qualche spiracolo in qualcuno da poter giudicare, che fusse ordinato da Dio per sua redenzione, niente di manco si è visto, come di poi nel più alto corso delle azioni, è stato dalla fortuna reprobato, in modo che rimasa come senza vita, aspetta qual possa essere quello che sane le sue ferite, e ponga fine alle direzioni e ai sacchi di Lombardia, alle spilazioni, e taglie del Reame e di Toscana, e la guarisca di quelle sue piaghe già per il lungo tempo infistolite. Vedesi come la prega Dio, che gli mandi qualcuno che la redima da questa crudeltà ed insolenza e barbare. Vedesi ancora tutta prona e disposta a seguire una bandiera, purché ci sia alcuno che la pigli. Né si vede al presente, in quale la possa più sperare, che nell'illustre casa vostra, la quale con la sua virtù e fortuna, favorita da Dio e dalla Chiesa, della quale ora Principe, possa farsi capo di questa redenzione. E questo non vi sarà molto difficile, se vi recherete innanzi le azioni e vite dei soprannominati. E benché quelli uomini siano rari e meravigliosi, non di meno furono uomini, ed ebbe ciascuno di loro minore occasione che la presente, perché in l'impresa loro non fu più giusta di questa, né più facile, né fu Dio più al loro amico che a voi. Qui è giustizia grande, perché quella guerra è giusta, che gli è necessaria, e quelle armi sono pietose, dove non si spera in altro che in elle. Qui è disposizione grandissima, né può essere, dove è grande disposizione, grandi difficoltà, perché quella pigli degli ordini di coloro che io vi ho proposto per mira. Oltre a questo, qui si vengono straordinari senza esempio condutti da Dio. Il mare si è aperto, una nube vi ha scorto il cammino, la pietra ha versato l'acqua, qui è piovuta la manna, ogni cosa è concorso nella vostra grandezza. Il rimanente dovete far voi. Dio non vuole far ogni cosa per non ci torre il libero arbitrio, è parte di quella gloria che tocca a noi. E non è maraviglia, se alcuno dei pronominati italiani non ha possuto far quello che si può sperare facile illustre casa vostra, e se in tante rivoluzioni d'Italia, e in tanti maneggi di guerra, e pare sempre che in quella la virtù militare sia spenta. Perché questo nasce che gli ordini antichi di quella non erano buoni, e non c'è sotto alcuno che abbia saputo trovare dei nuovi. Nessuna cosa fa tanto onore ad un uomo che di nuovo surga, quanto fanno le nuove leggi, e nuovi ordini trovati da lui. Queste cose, quando sono ben fondate, ed abino in loro grandezza, lo fanno reverendo e mirabile, e in Italia non manca materia da introdurvi ogni forma. Qui è virtù grande nelle membra, quando ella non mancasse nei capi. Specchiatevi negli duelli, e nei congressi dei pochi, quanto gli italiani siano superiori con le forze, con la destrezza, con l'ingegno. Ma come si viene agli eserciti, non compariscono, e tutto procede dalla debolezza dei capi, perché quelli che sanno non sono obbedienti, e a ciascuno par sapere, non ci essendo infino acquissuto alcuno, che si sia rilevato tanto, e per virtù e per fortuna, che gli altri cedino. Di qui nasce che in tanto tempo, in tante guerre fatte nei passati venti anni, quando gli è stato un esercito tutto italiano, sempre ha fatto malaprova, di che è testimone, prima il Taro, di poi Alessandria, Capua, Genova, Vailà, Bologna, Mestri. Volendo dunque la illustre casa vostra seguitare quegli eccellenti uomini, che redimero le province loro, è necessario innanzi a tutte le altre cose, come vero fondamento d'ogni impresa, provvedersi di armi proprie, perché non si può avere né più fidi, né più veri, né migliori soldati. E benché ciascuno di essi sia buono, tutti insieme diventeranno migliori, quando si vedranno comandare dal loro Principe, e da quello onorare e intrattenere. E' necessario pertanto prepararsi a queste armi, per potersi con virtù italiana difendere dagli esterni. E benché la fanteria svizzera e spagnola sia stimata terribile, non di manco in ambe due è il difetto, per il quale uno ordine terzo potrebbe non solamente opporsi loro, ma confidare di superarli, perché gli spagnoli non possono sostenere i cavalli, e gli svizzeri hanno ad aver paura dei fanti, quando gli riscontrino nel combattere ostinati come loro. Donde si è veduto, e vedrassi per esperienza, gli spagnoli non poter sostenere una cavalleria francese, e gli svizzeri essere rovinati da una fanteria spagnola. E benché di questo ultimo non se ne sia vista intera esperienza, niente di meno se ne è veduto uno saggio nella giornata di Ravenna, quando le fanterie spagnole si affrontarono con le battaglie tedesche, le quali servano in medesine ordine che gli svizzeri, dove gli spagnoli, con l'agilità del corpo e aiuti dei loro brocchieri, erano entrati tra le picche loro sotto, e stavano sicuri ad offendergli senza che li tedeschi vi avessino rimedio. E se non fosse la cavalleria che li urtò, gli arebbero consumati tutti. Può sia dunque, conosciuto il difetto dell'una e dell'altra di queste fanterie, ordinarne una di nuovo, la quale resista cavalli, e non abbia paura dei fanti. Il che lo farà non la generazione delle armi, ma la variazione degli ordini. E queste sono di quelle cose che di nuovo ordinate danno reputazione e grandezza a un Principe nuovo. Non si debba dunque lasciar passare questa occasione, a ciò che l'Italia vegga dopo tanto tempo a apparire un Suo Redentore. Ne posso esprimere con qual amore ei fussi ricevuto in tutte quelle province che hanno patito per queste illuvioni esterne, con qual sete di vendetta, con che ostinata fede, con che pietà, con che lacrime. Quali porte se li sererebbero? Quali popoli li negherebbero la obbedienza? Quale invidia se li opporrebbe? Quale italiano gli negherebbe lo sequio? Ad ognuno puzza questo barbaro dominio. Piglia dunque, la illustre casa vostra, questo assunto con quello animo, e con quelle speranze che si pigliano le imprese giuste, a ciò che sotto la sua insegna questa patria ne sia nobilitata, e sotto i suoi aspici si verifichi quel detto del Petrarca. Virtù contro al furore, prenderà l'armi, e fia il combattere corto, che l'antico valore negli talici cuor non è ancor morto. Fine del Capitolo 26 Fine del Principe Di Niccolò Machiavelli Cloud Fiii